durata di 55 ore e in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale e al Consiglio Nazionale Forense. Questo percorso formativo è rivolto ai professionalisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, agli avvocati che in conformità all'articolo 3 intendono iscriversi nel citato elenco. La partecipazione al corso è presupposto per l'ottenimento della qualifica di esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. Al termine del corso sarà rilasciato il certificato per potersi iscrivere al registro degli esperti. Oggi ci troviamo in presenza da Catania e contemporaneamente trasmettiamo in diretta webinar sulla piattaforma certificata BluNext. Per le prossime tappe è possibile partecipare anche in aula nelle città di Bologna e di Bergamo. Ricordiamo che la partecipazione in presenza è facoltativa, previa registrazione e fino esaurimento dei posti disponibili in sala. Per poter partecipare è obbligatorio essere in possesso di Green Pass. Le lezioni alle quali l'iscristo fosse impossibilitato a partecipare in presenza o da remoto potranno essere recuperate in modalità asincrona e differita, secondo il seguente calendario. Questi moduli del 26 e del 27, dal 29 fino all'812. I moduli del 10 e 11 dicembre da Bologna sono disponibili dall'11 fino al 15 e i moduli del 16 e 17 dicembre saranno disponibili dal 20 al 27 dicembre. Ricordiamo che al recupero delle lezioni è possibile unicamente ai fini di rilascio del certificato e per il raggiungimento dei 55 ore, ma non per i crediti professionali. Per consentire la registrazione di crediti formativi maturati, la piattaforma certificata per un ex verificherà per ciascuno dei partecipanti l'effettivo collegamento e non sarà necessario produrre alcuna autocertificazione. Per coloro che sono collegati da remoto, nella finestra troverete un punto interrogativo attraverso il quale potrete dialogare con noi, perché in sala saremo a disposizione con un microfono per le domande dalla platea. Ricordo a tutti che le domande dovranno essere inerenti agli argomenti trattati dal relatore e dovranno prevedere una risposta sintetica. colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti i docenti che ci accompagneranno in questo percorso e auguro un buon lavoro ai numeri di professionisti che ci stanno seguendo da remoto. Bene, ora passo la parola alla dottoressa Laura De Simone, presidente della sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Bergamo per l'introduzione dei lavori. Grazie. Buongiorno a tutti. Iniziamo la sessione di oggi con i saluti introduttivi del presidente della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Catania, dottor Mariano Sciacca. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto l'ordine dei commerciadisti di Bergamo e la rivista Diritto della Crisi per l'invito. Oggi tocca il compito forse più facile, più semplice, quello semplicemente di portare i saluti della sezione fondamentale del Tribunale di Catania e augurarvi buon lavoro. Io ho avuto la fortuna di assistere alla prima giornata di queste 55 ore e alla discussione che mi è seguita, l'intervento del professore Fabiani e mi ha colpito quando a un certo punto lui ha fatto riferimento alla scommessa che era sottesa a questo nuovo procedimento, a questa nuova riforma. Devo dire che però da presidente di una sezione che come tutte le altre sezioni delle procedure concorsuali affronta quotidianamente questioni a volte molto delicate, molto significative, che hanno un grossissimo impatto sia occupazionale che economico-finanziare. Il termine scommessa e tutta l'alea che è sottesa a questo termine provoca dei brimidi, quantomeno. Comunque, siccome ormai abbiamo di fronte un dato normativo, il suo dato normativo sicuramente bisogna confrontarsi e un incontro, questa serie di incontri rappresentano sicuramente una prima fondamentale occasione di questo, bisogna dare atto alla rivista della crisi, della tempestività con la quale per riuscire a intercettare questo fabbisogno formativo, è una scommessa veramente forte, perché le caratteristiche strutturali della nuova composizione negoziata in termini di volontarietà dell'accesso, di centralità della figura dell'esperto che deve essere capace di dare fiducia a chi decide di intraprendere questo percorso. La figura dell'esperto che è sicuramente la grande novità di questa riforma, perché gli si chiede sostanzialmente una multidisciplinarietà da fare tre mari polsi. Per questo poi la formazione a questo punto diventa importante, perché in un intervento, in un corso che è stato tenuto a Catania la scorsa settimana sui dati di bilancio, il professore Balfia è intervenuto richiamando un suo articolo pubblicato recentemente e parlando proprio della composizione negoziata, faceva riferimento a un'annovazione linguistica, l'annovazione linguistica che viviamo, l'ingresso di termini aziendalistici nel tessuto normativo in modo talmente forte, significativo, direi quasi violento, che Bastia parlava di lessico aziendale inaudito, nel senso di un'esplosione di riferimenti aziendalistici che il giurista in quanto tale ha veramente difficoltà a padroneggiare. Io aggiungerei da modesto giurista che non può padroneggiare. Se c'è proprio un dato che ormai sta veramente esplodendo, ma non solo nel campo del diritto fallimentare, ma in tutti i campi del diritto, è ormai la necessaria ibridazione dei saperi, in quanto il livello di specializzazione e gli approfondimenti che si richiedono per raggiungere determinate decisioni non può che passare attraverso per l'appunto una sorta di translinguidismo scientifico. Tornando per l'appunto alla considerazione di riferimento, il ruolo dell'esperto è fondamentale, perché deve avere delle schille professionali veramente di essere, come dire, multiforme, perché non si parla solo di un esperto che abbia per l'appunto capacità di analisi contabile, fiscale, finanziaria di un certo tipo, ma deve avere anche una capacità di mediazione, di creazione, di fiducia che non è anche questa presuppone delle schille professionali che probabilmente ancora oggi non tutti i professionisti hanno. E probabilmente attraverso la capacità di questo esperto di creare fiducia, di avere capacità di mediazione, di essere chiaramente, dico una banalità, riservato, passerà il successo, ovvero l'insuccesso di questa riforma. A fronte di questo, il ruolo della magistratura, sempre Fabiani diceva nella sua introduzione che ci sono stati interventi in dottrina che hanno accusato questa ulteriore ennesima riforma di essere d'impronta, di stampo neoliberista, di avere troppo spalancato le porte alla gestione privata dell'insolvenza prospettica, della probabilità di crisi, della possibilità di crisi, della crisi irreversibile e via dicendo, riducendo e allontanando l'intervento della magistratura. Ora, ha chiaramente rispedito al mittente, diciamo, questa accusa di un'impronta neoliberale e devo dire che condivido questo tipo di valutazione perché da noi in sezione la sensazione allorquando abbiamo cominciato a leggere il decreto legge è stata esattamente l'opposta. Cioè nel senso che al tribunale verranno richieste una serie di valutazioni che in parte chiaramente allorquando siamo chiamati a valutare concordato in bianco e poi il passaggio alla fase piena oppure quando siamo chiamati a fare valutazioni sull'accordo di ristrutturazione dei debiti e via dicendo scendiamo, fra virgolette, nella carne viva della gestione aziendale, delle prospettive per l'appunto di risanamento meno dell'impresa in crisi. Anche qua, e ripeto, alla prima lettura tutti abbiamo espresso grande preoccupazione, si richiedono alla magistratura sia con riferimento alle misure cautelari, alle misure protettive, ma anche con riferimento all'autorizzazione alla cessione dell'azienda oppure ancora per quanto riguarda l'attribuzione della natura privilegiata del credito da finanziamento, una serie di valutazioni di merito, di funzionalità economica aziendale, di quell'attività che si va ad autorizzare funzionale al risanamento dell'impresa, che sono veramente estremamente problematiche e qui sicuramente il ruolo dell'esperto in questo caso ausiliario del tribunale tornerà fortemente in gioco, perché in tutta una serie di valutazioni oggettente noi non siamo in grado di gestirle in via autonoma e abbiamo bisogno quindi di un ceto professionale che sia all'altezza di questo tipo di valutazioni. Quindi, scusate se vi ho rubato questo tempo, io vi auguro buon lavoro, chiaramente poi chiederemo alla Presidente De Simone di farci avere gli atti in modo tale che tutta la sezione ne possa fruire e auguro buon lavoro sia oggi che domani con l'Apralto ci sarà anche Lucia De Bernardini, grazie. Grazie Presidente per essere tornato su quelli che sono gli smodi cruciali. di questo nuovo istituto. Oggi nel dettaglio, soprattutto questa mattina, ci occuperemo della piattaforma. Proveremo a spiegarne il senso e il funzionamento. Vedremo se emergono anche eventuali criticità e quindi quelli che potrebbero essere un domani gli spazi di implementazione. Il legislatore punta sulla trasparenza del percorso, della composizione negoziata e la trasparenza del percorso è assicurata proprio dalla piattaforma. La piattaforma è un contenitore informatico idoneo a raccogliere in tempo tutti i passaggi del procedimento e a interlocuire con tutti quelli che sono gli interlocutori del percorso della composizione negoziata. La condivisione delle informazioni e dei dati sulla salute dell'impresa è uno dei punti fermi della direttiva Insolvency, la direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva della crisi che sollecita espressamente gli stati membri a rendere disponibile online informazioni sugli strumenti di allerta precoce e liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione. Quindi questa nuova normativa che disciplina la piattaforma è perfettamente in linea con la direttiva insolversi soprattutto perché poi la direttiva specifica che questi strumenti devono essere particolarmente adeguati alle esigenze delle PMI e quindi devono essere di agevole consultazione e recare indicazioni per la loro redazione. La piattaforma telematica deve assicurare tempestività nell'avvio e nella gestione del procedimento e piena chiarenza sulle nomine degli esperti vedremo anche piena informativa ai creditori su quelli che sono tutta la documentazione messa a disposizione degli imprenditori e verificata dall'esperto. Ecco consente quindi alle parti di intervenire a carti scoperte perché a tutti saranno assicurate quelle informazioni utili a scrutare la patologia delle imprese. Gli imprenditori troveranno tra gli utilities una lista di controllo, una serie di indicazioni operative che saranno anche ritagliate sulle tipologie e sulle dimensioni che caratterizzano le imprese e che saranno funzionali alla redazione di questi piani di risanamento e oltretutto ne parleremo più tardi all'autosomministrazione del test rapido per la verifica della proseguibilità del risanamento. Coerente con il sistema è che l'imprenditore quando accede non possa presentare solo la carta d'identità, l'imprenditore deve presentare un piano finanziario, un piano industriale, se ne ha avuto la possibilità di redigerlo comunque dovrà illustrare quelle che sono le possibilità del percorso che intende intraprendere. In questo senso vediamo l'articolo 5 del decreto che specifica quello che è lo schedario dei documenti che l'imprenditore deve depositare nel momento in cui accede tramite la piattaforma. L'imprenditore dovrà depositare i bilanci dell'ultimo triennio o una relazione sull'attività esercitata mediante un piano finanziario per i successivi sei mesi, nel senso che deve testimoniare il presupposto che è quello della continuità, deve indicare quelle che sono le iniziative industriali di prossima adozione, deve fornire un elenco dei creditori, quindi è lo stesso imprenditore che deve in un primo momento indicare quella che sarà la platea dei suoi interlocutori e indicandone anche gli importi e i gradi, dovrà certificare i crediti tributari e indicare quella che è la sua situazione nei confronti del sistema bancario depositando un estratto della centrale rischi. Quindi questa documentazione in primis è rivolta all'esperto perché l'esperto nei pochi giorni che intercorrono tra la sua nomina e la convocazione dei creditori dovrà esaminare questa documentazione e deve essere in grado di prospettare un qualcosa ai creditori, per cui è necessario che il corredo documentale sia adeguato e per esaminare la piattaforma oggi entreremo quindi nel dettaglio del decreto dirigenziale del Ministero di Giustizia del 28 settembre 2021 perché è proprio il decreto dirigenziale che si occupa di offrire una serie di indicazioni pratiche all'imprenditore e all'esperto perché il tentativo di risanamento possa essere efficace. Ma che cosa trova l'imprenditore sulla piattaforma? Che cosa deve esattamente inserire? Che cosa vi trova l'esperto? Che cosa vi trovano i creditori? Ecco, questi sono i temi di cui ci occuperemo stamattina. Io quindi darei subito la parola per una relazione che sarà dettagliata su questi aspetti al dottor Maurizio Stella perché le relazioni di oggi sono invertite. Il professor Capalbo arriverà nel pomeriggio, ha avuto problemi con i voli provenendo dal Molise e quindi questa mattina parleremo della piattaforma telematica manuale di utilizzo con il dottor Maurizio Stella che è dottore commercialista in Catania. Grazie dottore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio gli organizzatori, ringrazio la lista di diritto della crisi, mi complimento per l'iniziativa assolutamente apprezzabile e soprattutto per i contenuti delle relazioni che fino a oggi abbiamo potuto appunto ascoltare e assolutamente apprezzare. Mi viene dato un tema che mentre preparavo in questi giorni mi ha portato a fare tutta una serie di riflessioni perché parlare della piattaforma può sembrare una cosa quasi banale perché se la affrontiamo solo dal punto di vista informatico potrebbe sembrare come girare le pagine in un libro o guardare in prospettiva un sito internet, in realtà dietro c'è tanto e bisogna capire come si arriva alla logica della piattaforma che di fatto è soltanto quello strumento nel quale alla fine confluiranno tutta una serie di documenti e quindi di informazioni che saranno messe a disposizione dell'esperto per poi avviare questa procedura di negoziazione che potrebbe, ove ce ne sono appunto le condizioni, portare a un accordo, a una definizione che possa rimettere sul mercato salvaguardare comunque gli aspetti aziendalistici di una realtà che possa trovarsi appunto in difficoltà finanziarie, in una situazione di lieve crisi o una situazione addirittura di pre-insolvenza, in tal unica se appunto la dottrina comincia a chiarire che anche un'azienda che si chiama una strada di insolvenza, se ci sono le condizioni può assolutamente provare la strada appunto della composizione negoziata. Prova ne sia che appunto possono essere presentate, può essere presentata all'istanza anche in impendenza di istanze di fallimento, ovviamente con tutta una serie di condizioni che adesso vedremo nel corso della mattinata. Bene, io giusto per consentire a chi ci segue un po' di capire qual è la logica con la quale ho pensato di strutturare il mio intervento di stamattina, ho pensato che piuttosto di organizzare una serie di slide che potevano anche non dare a chi appunto segue anche a distanza quello che è il percorso logico che provo a fare stamattina insieme a voi, ho preferito ripercorrere il decreto legge 118 per tutti quegli aspetti che sono direttamente riconducibili, diciamo alla piattaforma, ciò che c'è dietro la piattaforma e ciò che confluirà dentro la piattaforma. E questo anche per creare un necessario collegamento con tutta una serie di adempimenti che sono direttamente legati all'avvio della procedura e quindi alla presentazione dell'istanza. Vi anticipo che in conclusione del mio intervento avremo la possibilità di vedere una parte della piattaforma online, non solo quella che è immediatamente visibile, cioè quella cosiddetta la parte pubblica che può essere visionata da chiunque, ma sono riuscito a fare una serie di screenshot che vi mostrerò su come inserire un'istanza. Ovviamente, lo premetto, ma lo vedremo più tardi, questo accesso è illimitato soltanto quale legale rappresentante di un'azienda, di una società, di una ditta individuale o qualunque esso sia il soggetto giuridico che può appunto presentare l'istanza. E appunto quale legale rappresentante di una società ho potuto avviare questo percorso e quindi potervi presentare almeno questi aspetti preliminari. Vi anticipo che non è possibile vedere invece la piattaforma utilizzabile dall'esperto, non perché chiaramente l'esperto avrà la possibilità di accedere alla piattaforma solo dopo che sarà nominato e quindi è un percorso ancora in itine, nonostante la piattaforma è già attiva dal 15 novembre scorso, ma soltanto il soggetto che effettivamente è stato nominato potrà accedere nell'area che viene appunto riservata all'esperto. Quindi questo aspetto della piattaforma in assenza dei gestori della piattaforma, quindi del Ministero, diventa impossibile mostrarla a voi. Bene, a questo punto, ripeto, io comincerei proprio guardando quelli che sono gli aspetti normativi e poi calandoci piano piano anche nel decreto dirigenziale, quindi in tutti gli allegati che sono stati previsti per poter giungere sia sotto un profilo sostanziale che sotto un profilo formale alla predisposizione dell'istanza. Il centro, diciamo, della logica della piattaforma è concentrata certamente nell'articolo 3 e vedremo subito dopo anche nell'articolo 5. L'articolo 3 del decreto legge 118 del 2001 appunto parla dell'istituzione di questa piattaforma telematica nazionale che ha come obiettivo appunto quello di consentire all'esperto di acquisire una serie di informazioni e avviare questo percorso di composizione negoziata. La piattaforma, come chi ha avuto la possibilità di vederla sul sito, è una piattaforma unica nazionale, quindi è gestita dal Ministero ed è un'unica piattaforma per tutto il territorio nazionale, appunto gestita tramite Union Camere. Sulla piattaforma sono disponibili una serie di, appunto il decreto legge prevedeva la necessità di mettere a disposizione una lista di controllo particolarizzata che sia adeguata alle realtà aziendali, quindi sia piccole imprese, micro imprese, imprese di dimensioni anche superiori. Vale la pena di ricordare che, anche se è stato già detto da chi mi ha preceduto, che ovviamente l'accesso a questa composizione negoziata è consentita all'imprenditore to cure, quindi dalla ditta individuale alle varie forme di impresa collettiva, società di persone, società di capitali e all'imprenditore agricolo. Non sfugge il fatto che, a differenza del decreto legge che ha riformato appunto la crisi d'impresa, il decreto legislativo 14 del 2019, dove appunto sono individuati in maniera puntuale i soggetti a cui si apriva la normativa, qui in effetti non vengono dati dei confini specifici relativamente alle dimensioni aziendali, quindi anche in realtà aziendali importanti possono accedere a questo strumento. Quindi diventa essenziale anche dimensionare la documentazione che deve essere messa a disposizione dell'esperto in funzione di quella che è la realtà aziendale che viene rappresentata. In questo senso devo dire già il legislatore ha previsto un obbligo di presentazione di una serie di documenti, che vedremo più avanti, e ha anche lì previsto la possibilità di differenziarli secondo la natura dell'imprenditore. Nella piattaforma peraltro viene messa a disposizione anche un test pratico che è utilizzabile da chiunque perché nella parte pubblica, quindi è un file Excel facilmente scaricabile per poter realizzare appunto il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Questo ovviamente è un file accessibile a tutti, quindi sia all'imprenditore sia ai professionisti che vengono incaricati dall'imprenditore per la predisposizione appunto di tutta la documentazione. La struttura della piattaforma appunto da vista di controllo particolareggiata è stata adottata in funzione dell'entrata in vigore di un decreto dirigenziale che vedremo più avanti e che ha portato poi in esito alla realizzazione appunto della piattaforma informatica. Una cosa invece che va assolutamente approfondita è la gestione sotto il profilo sostanziale di quello che è questa piattaforma e quindi chi sono gli attori che possono, anzi che aiutano ad aggiungere poi alla nomina dell'esperto. Come abbiamo potuto leggere il comma 3 dell'appunto dell'articolo 3 prevede che presso le gambe di commercio del capoluogo di regione, quindi c'è una competenza di natura regionale, possono essere iscritti, viene formato l'elenco degli esperti che possono essere nominati appunto per la procedura di negoziazione. Sappiamo bene che sono stati previsti tutta una serie di requisiti per poter far parte dell'elenco degli esperti, rientrano i dottori commercialisti, gli avvocati iscritti da almeno 5 anni negli ordini professionali che abbiano avuto una esperienza e che possono documentare questa esperienza nell'ambito della gestione della crisi di impresa e quindi rientrano un po' tutti gli istituti previsti dalla legge fallimentare, gli accordi di strutturazione, concordati, tutto quello che può essere considerato anche strumenti alternativi appunto alla vera e propria procedura concorsuale, appunto il fallimento e rientrano anche tra il bagaglio di esperienza coloro che sono gestori della crisi di sovraindebidamento, quella legge 3 del 2012, purché però appunto si siano occupati di gestione di accordi di natura tra virgolette imprenditoriali, quindi che siano compatibili con le esigenze appunto della legge del decreto legge 118, questo tengo a precisarlo perché appunto dalle indicazioni che abbiamo ricevuto sembrerebbe che siano esclusi coloro che siano occupati della gestione sostanzialmente del privato o comunque diciamo di quelle procedure minori previste all'interno della legge 3 del 2012 e peraltro richiesta la formazione obbligatoria, appunto questo corso che è stato previsto della durata di 55 ore, dove peraltro nel decreto di dirigenziale in maniera assolutamente puntuale è individuato anche il percorso formativo e come diceva prima il Presidente Sciacca, dalla lettura delle ore di formazione e del contenuto delle ore di formazione si comprende come le scherze che vengono richieste a questo esperto sono assolutamente ampie perché non vengono richieste solo conoscenze di natura giuridica, conoscenze di natura aziendalistica ma ci sono delle ore espressamente concentrate sulla gestione delle relazioni, sul coaching, sulla mediazione e quant'altro e ricordo anche io sono stato per un po' di tempo iscritto nel registro dei mediatori, istituto che purtroppo non ha avuto grandissimo successo in Italia, che lì non era richiesta una grandissima competenza di natura giuridica e aziendalistica, invece era richiesta una particolare competenza proprio nella gestione delle relazioni, qui invece è certamente un contenuto molto, ma molto più ampio, ecco perché peraltro ripetiamo è obbligatorio questo corso di formazione. L'escrizione dell'elenco avviene attraverso, è stato previsto dall'articolo 3 che la gestione di questo elenco viene effettuata tra gli ordini professionali e la camera di commercio del capoluogo di regione. Vi farò vedere anche nel corso di questa mattinata, mi riferisco in particolare al documento che è stato emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti degli esperti contabili, che ha previsto tutte le procedure e anche le istanze per poter cedere e potersi iscrivere all'elenco degli esperti. La cosa che può essere utile, ripeto la domanda la vediamo più tardi, quindi non mi voglio soffermare su questi aspetti che possono essere marginali, ma fanno appunto parte della formazione e quindi vanno assolutamente affrontati. Quello che invece dicevo, è espressamente richiesto, lo dicevo prima, che l'esperienza formativa vi siano appunto anche tecniche di facilitazione e mediazione valutabili all'attimo della nomina come titolo di preferenza. Quindi la commissione che vedremo tra un attimo e che nominerà l'esperto deve valutare, quando nomina un esperto, l'insieme delle competenze che quel soggetto ha maturato per renderlo tra virgolette adeguato al tipo di incarico che dovrà affrontare. Nell'articolo 3 sono previste anche tutta una serie di ruoli di responsabilità, per esempio l'ordine professionale di riferimento dell'iscritto, quindi l'ordine degli avvocati o l'ordine dei dottori commercialisti, non voglio tralasciare, forse mi è sfuggito prima, che possano far parte dell'elenco anche consulenti del lavoro che abbiano maturato una specifica competenza nella risoluzione delle crisi di impresa. Dicevo, gli ordini professionali hanno l'obbligo dell'aggiornamento di questo elenco che fino al 16 maggio 2022 avverrà costantemente e poi dal 17 maggio 2022 con cadenza annuale. Ovviamente va fatta una valutazione della documentazione che viene presentata, ma c'è anche un ruolo di responsabilità, perché gli ordini professionali dovranno verificare che effettivamente quelle attestazioni che vengono riportate nella domanda siano veritiere, ma soprattutto dovranno verificare che non ci siano procedimenti disciplinari superiori alla censura, che non ci siano stati nel frattempo provvedimenti ulteriori dal punto vista disciplinare, eventualmente chiaramente in caso di cancellazione comunicare agli organi competenti, questa è una procedura che già gli ordini professionali attuano a prescindere, in questo caso va aggiunto la Camera di Commercio competente per chi è appunto iscritto nell'albo degli esperti. Quello che può essere anche utile approfondire è l'aspetto della gestione della nomina dell'esperto. La comma 6 prevede che la nomina dell'esperto avviene a opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso la Camera di Commercio dei capoluoghi di regione, quindi dicevo c'è una competenza regionale, a prescindere del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa che presenterà all'istanza, come vi dicevo la piattaforma unica nazionale, quando vi farò vedere lo screenshot del protocollo unico nazionale, ma ripeto poi la competenza viene gestita a livello regionale. La commissione viene composta da tre membri, un membro e un magistrato disegnato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione, un membro disegnato dal Presidente della Camera di Commercio dove è istituita la commissione e un membro disegnato dal prefetto del capoluogo di regione dove appunto viene tenuto l'elenco. Letto così è tutto di facile comprensione, la Costituzione della commissione può sembrare appunto di immediata comprensione. Farei qualche riflessione sugli aspetti gestionali di questa commissione. Guardate un po' la tempistica che è assolutamente comprensibile, il legislatore vuole evitare che questo strumento sia utilizzato come uno strumento per, scusatemi passare il termine, perder tempo. Diciamo l'obiettivo è quello di portare avanti tutte quelle procedure che sono meritevoli di essere appunto valutate. E quindi stabilisce che il segretario generale della Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, che quindi riceve la domanda che è stata inserita sul portale unico, sulla piattaforma, ricevuta l'istanza la deve trasmettere entro i due giorni lavorativi successivi alla commissione sostanzialmente che dovrà procedere alla valutazione e quindi alla nomina dell'esperto. Nella trasmissione della domanda dovrà inserire tutta una serie di dati, di indicazioni, il volume d'affare, il numero di dipendenti, il settore in cui opera l'impresa, quindi dovrà completare la domanda che gli è pervenuta con un'ulteriore serie di informazioni che poi vanno appunto trasferite alla commissione. La commissione che riceve la domanda da parte del segretario generale della Camera di Commercio nei cinque giorni successivi dovrà procedere alla nomina dell'esperto. Come possiamo leggere, la nomina dell'esperto, che può venire anche fuori all'ambito regionale, deve tenere conto di una serie di criteri. Il primo ovviamente è assicurare la massima rotazione possibile, la massima trasparenza nella nomina, accertarsi che ciascun esperto non abbia più di due incarichi contemporaneamente e soprattutto fare una valutazione di merito dei curricula degli esperti e adeguare la nomina alla tipologia di procedura, quindi tipologia, ripeto, alla complessità della procedura per la quale viene presentata l'istanza. Beh, guardando questo aspetto e guardando, non lo dico in senso critico, ma è una riflessione che faccio a voce alta, che peraltro la commissione coordinata al membro più anziano decide a maggioranza e ancora che i suoi membri non aspettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri monumenti comunque denominati, beh, se io faccio due più due e dico, se questo istituto funziona veramente e quindi vengono presentate molte domande, ritenuta la competenza regionale, c'è il rischio concreto che questa commissione almeno due volte alla settimana si debba riunire per procedere dalla nomina degli esperti. Ma anche qui puntuiamo la riforma alla crisi di imprese, in assenza di un assetto organizzativo adeguato alla Camera di Commercio, tutte le informazioni di cui devono essere in possesso i componenti della commissione diventano di gestione assolutamente complessa, perché se bisogna garantire la massima trasparenza e bisogna garantire appunto una valutazione che consente di adeguare la nomina dell'esperto alla complessità della pratica e quindi fare una valutazione, fatemi passare questo termine, di merito non tanto della qualità dell'esperto quanto delle competenze che ha maturato, devo dire che qualche profilo di complessità sotto l'aspetto organizzativo probabilmente si potrebbe porre. Ovviamente l'auspicio del legislatore, ma un po' di tutti quanti noi, è quello che questo istituto possa assolutamente funzionare e che quindi possa prevenire e salvaguardare tante imprese meritevoli di rimanere sul mercato e quindi salvaguardare realtà aziendalistiche, posti di lavoro, unità produttive e quant'altro, se così sarà probabilmente questo è un aspetto che andrebbe rivalutato o quantomeno necessario di un supporto organizzativo abbastanza importante. Un altro aspetto importante che va segnalato, anche se questo viene previsto per legge, è che gli incarichi conferiti del curriculum vitae dell'esperto sono pubblicati senza indugio in un'apposita sezione del sito interistituzionale della cammina di commercio e industria del luogo dove la nomina viene eseguita sostanzialmente e viene pubblicato per renderlo conoscibile appunto a chiunque ne abbia interesse. Bene, questi sono gli aspetti, come dire, tralascio gli altri commi che sono quelli di natura finanziaria per la gestione della piattaforma che ci interessano di meno, ma per avere un'idea di quelli che sono i profili organizzativi e il fondamento normativo che poi ha portato alla creazione della piattaforma appunto sono contenuti nell'articolo 3. Diciamo che adesso vorrei affrontare una serie di profili tutti direttamente connessi appunto alla gestione della piattaforma di cui bisogna avere una sufficiente cognizione. E certamente uno degli aspetti più importanti, mi riferisco a tutti coloro che partecipano a questo corso, che certamente lo fanno al di là della conoscenza dell'aspetto normativo probabilmente per maturare appunto quella formazione necessaria per iscriversi all'elenco degli esperti, è quello di conoscere quali sono i requisiti di indipendenza e i doveri dell'esperto e delle parti. I requisiti dell'indipendenza sono abbastanza, come dire, facilmente individuabili perché l'articolo 4 al primo comma fa riferimento ai requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile, quindi diciamo sono i requisiti tra virgolette ordinari previsti appunto per tutte le cause di incompatibilità o ineleggibilità e chiaramente l'esperto non deve essere legato all'impresa o alle parti interessate da nessun tipo di rapporto di natura personale o professionale, questo appunto per poter garantire l'indipendenza. In sede di conversione è stato inserito alla fine del comma 1 che chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore, ciò non sono decorsi almeno due anni dall'archivazione alla composizione negoziata. Questo è un altro aspetto di cui bisogna avere piena consapevolezza. Diciamolo per scontato che l'esperto evidentemente è terzo rispetto a tutte le parti e non deve avere appunto nessun tipo di legame, ma ha una serie di poteri appunto previsti nell'articolo del comma 2 nell'esercizio delle sue funzioni, quindi può chiedere all'imprenditore e creditore tutte le informazioni utili e necessarie, può avvalersi anche di soggetti dotati di specifica competenza, ovvero appunto l'esperto non abbia tutte le competenze richieste per la gestione dell'istanza presentata, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore o di un revisore legale. Per fare un esempio, la compatibilità per esempio tra un giurista, un avvocato rispetto a profili di natura contabile possono giustificare come ausiliario un revisore legale, ma anche per un professionista aziendalista, un dottore commercialista può essere necessario farsi affiancare da qualcuno che conosca in modo specifico un settore particolare in cui opera l'azienda che ha presentato distanze, quindi avere conoscenza delle peculiarità del settore per poter fare una valutazione più approfondita di aspetti legati anche a profili produttivi, profili commerciali e quant'altro. Quindi diciamo che è bello leggere in questa norma la possibilità, anzi direi di più, la necessità di farsi quadruare da figure che possono meglio aiutare l'esperto nella valutazione. L'aspetto che non va tralasciato è ovviamente, questo l'abbiamo già letto, sono gli approcci previsti nel decreto legislativo 14 del 2019 della riforma della crisi d'impresa, che l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e gestire il patrimonio dell'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Io quando leggo queste norme tante volte mi chiedo, ma è necessario scriverle? Dovrebbero essere norme di etica che vanno applicate a prescindere, ma in realtà è anche opportuno leggerle all'interno di un testo normativo anche per individuare dei profili di irresponsabilità. Tante volte la gestione del rapporto con la figura imprenditoriale sappiamo che è particolarmente complessa, non perché l'imprenditore sia in malafede, ma perché sappiamo in maniera quanto viscerale spesso vive la propria azienda. Questo concetto di trasparenza va assolutamente alimentato, va alimentato chiaramente non dall'esperto che verrà nominato per la gestione e la composizione negoziata, che chiaramente riceverà quelle informazioni, ma da quei consulenti che affiangano l'imprenditore per mettere l'esperto in condizioni di poter avere la vera consapevolezza che l'imprenditore ha rappresentato in maniera trasparente e veritiera la situazione della propria azienda. Peraltro la gestione dell'impresa, che vedremo più avanti perché parte di un altro articolo del decreto legge 118, è opportuno segnalare che l'esperto ha una serie di responsabilità e di segnalazioni che deve fare anche la magistratura competente in presenza di operazioni fatte dall'imprenditore che siano in contrasto con quello che è il procedimento in corso. Chiaramente tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare in maniera leale, quindi anche questo era un approccio che abbiamo già letto nel decreto legge 14, viene riportato nel decreto legge in esame e soprattutto il collaborare lealmente è anche il presupposto di un collaborare in maniera veloce e sollecito per poter consentire all'esperto e all'imprenditore di giungere a una soluzione, o ripeto ci siano le condizioni, della gestione della crisi. Un altro aspetto che non va tralasciato relativo appunto alla figura dell'esperto, e poi passiamo all'esame dell'articolo 5 e lo abbiamo già letto in diversi articoli che sono stati pubblicati da riviste specializzate, la figura dell'esperto, a differenza di quelle che sono le figure che oggi sono presenti nell'ambito professionale, va subito chiarito che non è quello di essere un attestatore, può essere tra virgolette un consulente indiretto dell'imprenditore perché appunto è un facilitatore, ma nello stesso tempo deve mantenere questo ruolo terzo e a sua volta deve essere garante nei confronti dei terzi, dei creditori e anche della magistratura perché qualunque tipo di segnalazione vedremo arriverà la magistratura attraverso il ruolo dell'esperto. Quindi capite che questa figura è una figura assolutamente nuova nel panorama professionale, che peraltro interagisce con le figure appunto di avvocati, dottori commercialisti, consulenti di lavoro o quant'altro. Dottore, magari ne interrompo un attimo, ne faccio due domande che sono giunte nel frattempo, insomma sono sull'articolo, almeno uno sull'articolo 4 e l'altro più generale. Allora, sull'articolo 4 le si chiede da un partecipante qual è la razio dell'ultimo periodo dell'articolo 4, dove parla dell'incompatibilità professionale postuma tra l'esperto e l'imprenditore e chiede quali potrebbero essere le sanzioni in caso di violazione. Torniamo un attimo su questo punto, la vediamo. Beh, allora, quali possono essere... Dobbiamo ragionare insieme, visto che la normativa è nuova. Assolutamente sì. Diciamo che io partirei da un punto di vista, anche lì, metterei sempre l'etica davanti. Cioè, un comportamento negligente, cioè una violazione comunque di una norma che impone che quell'imprenditore non possa essere assistito dall'esperto che è stato nominato per i due anni successivi, porre un problema sicuramente di natura disciplinare, perché può essere sanzionato dall'ordine professionale di competenza. Sappiamo che gli ordini professionali sono garanti della fede pubblica. C'è una norma che vieta la possibilità di assistere un soggetto che è stato assistito per una procedura prevista per legge, quindi certamente io individuerei una responsabilità di natura disciplinare, che ovviamente poi sarà rimessa al Consiglio di disciplina competente. E certamente non escluderei anche dei profili di responsabilità di altra natura che possono derivarne dalla gestione di quel rapporto, dove magari, peraltro, l'esperto ha utilizzato tutta una serie di informazioni che erano assolutamente riservate e sottoposte al segreto professionale, quindi avvantaggiandosi di quel tipo di informazioni, ha utilizzato in maniera non leale quelle informazioni che possono essere state utilizzate anche a danno di terzi o creditori. Poi ovviamente bisogna entrare nella fattispecie, inguadrarla, diciamo per sommi capi, certamente questi sono i profili che individuo, poi chiaramente vanno esaminati gli atti compiuti dal soggetto che ha violato la norma. Esatto, sì, anche secondo me in via generale il profilo può essere solo di tipo disciplinare perché non c'è una sanzione specifica prevista. Salvo appunto che la consulenza di quel professionista non abbia regato danno a terzi, allora... Esatto, sì, si determini danni, ma poi ci sono le regole generali in caso di danni. Ecco, vi era un altro tema un po' più generale, di cui abbiamo già parlato forse agli scorsi incontri, ma sul quale è opportuno tornare, si dice ma perché non è stato previsto un collegio di esperti, è stato previsto un collegio solo, un professionista solo, forse un dottore commercialista e un avvocato insieme avrebbero potuto offrire un apporto più completo. Ecco, spieghiamo magari chi c'è la possibilità di avvalersi. Beh, allora, questa riflessione io l'ho fatta anche mentre provavo l'intervento e studiavo il decreto legge. Devo dire che se in tantissime circostanze è utile la nomina di un collegio in procedure concorsuali importanti avviene, peraltro è previsto per legge, qui probabilmente lo spirito legislatore era quello di, per quanto possono essere procedure assolutamente complesse per le problematiche in sé, ma l'obiettivo è quello di una procedura veloce. La gestione attraverso un collegio non sempre favorisce una velocità nella gestione della procedura. Viceversa, il fatto di consentire, lo abbiamo letto e previsto nella norma, di consentire all'esperto di farsi coadiuvare da altri professionisti o da altri soggetti che hanno delle competenze che lui non ha e che quindi possono aiutarlo nella gestione della procedura, peraltro sappiamo, perché è scritto anche lì nella norma, sotto la responsabilità dell'esperto, probabilmente favorisce molto di più il rispetto di quei termini di 180 giorni prorogabili con il consenso di tutti e quindi secondo me lo spirito legislatore era proprio quello di evitare una sovrastruttura, lo leggiamo anche nella composizione della commissione, come dicevo prima, che secondo me delle criticità potrebbero rappresentare e quindi io ritengo che viene aggirato l'aspetto del collegio attraverso appunto quello che è già previsto nel decreto legge. Ultime due domande, poi le lascio andare avanti perché altrimenti usciamo anche dal tema della mattinata. Sono sempre sul ruolo dell'esperto, le unisco perché riguardano proprio il rigore del concetto di indipendenza che caratterizza l'esperto, nel senso che qui si dice per l'esperto può avvalersi di professionisti presenti all'interno dello studio nominandoli anche se collegati professionalmente o anche l'esperto rientra nelle parti interessate di cui l'ultimo periodo dell'articolo 4,2. Il secondo, ma è indipendente l'esperto che abbia avuto rapporti professionali con tal uno dei creditori delle imprese in crisi? Il problema sarà soprattutto per le banche. Beh, allora, sulla seconda rispondo più velocemente. Ritengo che il fatto che sia stato consulente di uno dei creditori nella norma non è citato, cioè la norma inquadra in maniera abbastanza puntuale il profilo di indipendenza e quindi secondo me questo non è ostativo all'assunzione dell'incarico. La prima domanda invece è un po' più elaborata, se vogliamo, perché anche lì la figura dell'esperto che dichiara di essere indipendente, perché poi lo vediamo nel corso della mattinata, lo deve autocertificare, quindi deve verificare questa sua indipendenza e lo deve mettere per iscritto inserendo il documento nella piattaforma. Se si tratta di collaboratori dello studio dell'esperto, beh, se l'esperto è indipendente, i collaboratori non hanno i rapporti previsti, cioè non hanno i rapporti che possono minare l'indipendenza dell'esperto, secondo me possono assolutamente aiutare l'esperto nella gestione della procedura. Diverso è il caso in cui invece esistono dei collegamenti con, ma a questo punto io vado un po' oltre, se si tratta di un socio di studio, di un esperto, probabilmente l'esperto non è così indipendente da poter accettare l'incarico, quindi è un ragionamento che va guardato nella sua complessità. Peraltro, devo dire, chi è anche revisore legale e conosce i profili di indipendenza previsti dagli ISA, che sono molto, ma molto più stringenti rispetto a quelli che sono previsti nel decreto legge 118, dove dentro il profilo di indipendenza c'è anche dipendenza di natura economica, rapporti con parti correlati, cioè un concetto molto, ma molto più ampio, qui sembrerebbe che il legislatore l'abbia voluto confinare appunto alle previsioni dell'articolo 4. Quindi anche lì, poi è il buon senso che prevale, però secondo me, ripeto, se l'esperto è effettivamente indipendente e i propri soci e collaboratori di studio seguono l'indipendenza dell'esperto, a mio avviso non ci sono particolari stati. Sì, adesso a corollario c'è un'ulteriore domanda che riguarda la possibilità di questi coadiutori di partecipare alle riunioni, a cui io ritengo di sì, perché nel momento in cui sono nominati non vedo preclusioni a partecipare ai lavori che si terranno davanti all'esperto. Ma diciamo che qui in qualche maniera provo a mutuare dalla legge fallimentare, il coadiutore che viene nominato per il curatore può partecipare, quindi non vedo perché in questo caso non dovrebbe poter partecipare. Chiaramente, essendo sotto la responsabilità dell'esperto, al coadiutore si applicano tutte le norme sulla segretezza, sul dovere appunto di mantenere riservate tutte le informazioni di cui viene a conoscenza, questo perché minerebbe anche il ruolo dell'esperto, quindi a mio avviso sì. C'è un'ulteriore domanda sulle azioni di responsabilità possibili nei confronti dell'esperto, solo che qui il tema è molto ampio e usciamo direi dal tema della piattaforma, per cui sicuramente ne parleremo magari nella sessione di domani dove siamo tutti giuristi e che quindi è più legata a quegli aspetti di natura anche giuridica del ruolo dell'esperto, quindi direi invece di approfittare della presenza del dottore per proseguire con le tematiche inerenti alla piattaforma, ma certamente queste domande che sono molto di interesse per tutti, credo le riaffrontiamo in un contesto diciamo complessivo giuridico, anche sul ruolo dell'esperto che domani sarà mia cura introdurre. Ok, grazie. Bene, a questo punto ho provato a tracciare un po' quella che è l'identità di questo esperto con la consapevolezza e lo ribadisco che l'esperto non è l'attestatore che noi conosciamo, quindi non deve applicare delle procedure come previste per esempio per i piani attestati o l'attestazione di accordo di strutturazione o dei concordati, ma appunto è una figura tra virgolette trasversale, è una figura direi work in progress in costruzione, nel senso che appunto anche questa formazione e soprattutto la gestione delle prime procedure porterà meglio a ritagliare quella che è la figura del, a delineare meglio la figura dell'esperto e ci tengo a precisare che si differenzia anche dalla figura del gestore della crisi sovraindebitamento, perché lì il gestore alla fine fa un'attestazione che viene depositata in tribunale per l'accesso a una delle procedure previste dalla legge 3 del 2012, quindi anche lì per quanto sia forse più compatibile perché aiuta il sovraindebitato a individuare il piano, qui la figura dell'esperto diventa meno invasiva sotto questo previsto perché appunto non deve attestare nulla. Bene, adesso entriamo nell'aspetto proprio del funzionamento della piattaforma che è disciplinata appunto, la piattaforma e quindi parliamo appunto dell'accesso alla procedure della composizione negoziata che è disciplinata dall'articolo 5, quindi entriamo proprio dagli aspetti procedurali. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata appunto attraverso la piattaforma e mediante la compilazione di un modello, ribadisco questo nel corso della mattinata vedremo come si compila una domanda, contenendo tutta una serie di informazioni utili appunto ai fini della nomina, quindi la finalità della presentazione dell'istanza va in due direzioni, una direzione è quella di consentire alla commissione di valutare la nomina dell'esperto e quindi di procedere successivamente alla nomina e dall'altro di consentire all'esperto nominato di fare una prima valutazione preliminare sulla opportunità di accettare o meno l'incarico e successivamente accettato l'incarico di valutare appunto la sostenibilità di quella domanda che viene presentata e quindi se ci sono effettivamente le condizioni per portare avanti la procedura di composizione negoziata. Qui l'articolo 5 in maniera molto puntuale, peraltro lo vedremo, il decreto dirigenziale riporta in maniera peristroca sostanzialmente quello che è già previsto nell'articolo 5, l'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza deve inserire nella piattaforma telematica una serie di documenti. E qui cominciamo a entrare nel merito di quelli che sono documenti richiesti appunto per legge. Vengono depositati i bilanci negli ultimi tre esercizi se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese. Oppure per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito i bilanci, l'edicazione del reddito e l'iva degli ultimi tre periodi d'imposta nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell'istanza. Bene, questo punto merita già una riflessione. Vi anticipo, per chi non ha avuto modo ancora di poter accedere alla piattaforma, che per le società di capitali che hanno puntualmente depositato i bilanci presso il registro delle imprese, vi è già un link direttamente alla piattaforma per poterli importare. Quindi di fatto sono i bilanci già depositati presso il registro delle imprese. In presenza di una società inadempiente è chiaro che quei documenti vanno allegati. Altro aspetto importante, il legislatore differenzia, ecco che qui entra nel medio delle dimensioni aziendali, per quei soggetti che non sono obbligati al deposito del bilancio e quindi tutte le società delle persone, gli imprenditori individuali, di sostituirli con la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA. Che per carità, qui parlo ai colleghi, sono certamente documenti ufficiali, ma di natura esclusivamente fiscali, a mio avviso sono poche le informazioni che si possono acquisire attraverso un'analisi di questi documenti. È vero che il legislatore prevede anche l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza, ma purtroppo sappiamo che nel nostro ordinamento giuridico esiste una norma di natura tributaria che prevede la possibilità per i piccoli imprenditori e anche per le persone di tenere la contabilità cosiddetta semplificata. Norma che non ha nessuna valenza da un punto di vista civilistico, perché il codice civile in maniera chiara dice che l'imprenditore è obbligato a tenere il libro giornale, i libri sociali appunto previsti e così via, ma la norma fiscale purtroppo nella prassi ha abbondantemente offuscato gli aspetti civilistici. Magari quell'imprenditore si rende conto che avrebbe dovuto tenere quei libri dal punto di vista previsto dal codice civile solo quando magari viene rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta, bancarotta documentale o quant'altro. Questo lo dico perché purtroppo è accaduto e accade. Quindi anche lì gli advisor, i consulenti dell'imprenditore a mio avviso hanno un obbligo proprio per quella trasparenza che è richiesta alla norma di ricostruire una situazione contabile da un punto di vista patrimoniale che non è una banalità soprattutto se una ditta individuale o una società che ha dei buoni volumi e una ricostruzione fatta a posteriori potrebbe avere delle lacune importanti. A mio avviso quindi questi sono degli aspetti che i consulenti che assistono l'imprenditore devono valutare con la massima attenzione anche perché ricordiamoci, è scritto nella norma, che il procedimento di negoziazione deve durare 180 giorni. Se io presento la domanda e ancora questo lavoro lo devo avviare c'è il rischio che gli all'esperto già di per sé dichiari che non ci sono le condizioni perché non ha neanche le informazioni necessarie per poter entrare nel merito e poter valutare quel piano. Quindi facciamo molta attenzione a questo aspetto. Il punto B, anche qui in maniera quanto più emblematica possibile, prevede il deposito di una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare. Beh, una situazione chiara e sintetica, la chiarezza è un concetto molto, credo chiaro a tutti, uso lo stesso termine, sintetica spesso è utile che sia stato scritto dal legislatore, ma essere troppo sintetica spesso potrebbe trascurare degli aspetti importanti. Visto lo studio della norma che è quello di consentire all'esperto di avere tutte le informazioni necessarie, è opportuno con senso di responsabilità interpretare nella maniera corretta questo concetto di sinteticità. Cioè, la relazione deve essere completa, per quanto chiara, ma deve essere completa. E soprattutto la realizzazione di un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali. Beh, qui vedete che il legislatore ha cercato di abbracciare un po' tutto quello che è il mondo aziendalistico, perché la proiezione finanziaria dei mesi successivi non può prescindere anche da un piano economico, perché la proiezione finanziaria presuppone che ci sia un piano economico che poi possa generare i flussi finanziari, se si tratta peraltro di una realtà che noi dobbiamo provare a mantenere sul mercato, quindi deve essere in grado di produrre dei flussi finanziari che sono derivanti dalla gestione caratteristica. Per carità, si potranno valutare anche dei piani alternativi con delle dismissioni, quindi con flussi finanziari che non provengono direttamente dalla gestione caratteristica, ma dalla gestione straordinaria. Tutto è possibile sotto questo aspetto, però diciamo che anche lì la presentazione del piano finanziario, proviamo a ragionare in un'ottica di previsione, secondo me deve avere anche un sostegno economico significativo e quindi basato su dati storici proiettati in futuro, ma soprattutto valutando anche le condizioni di mercato nel quale opera l'azienda sottoposta a procedura. E così anche le iniziative industriali, cioè se sono previsti degli investimenti, se sono previsti dei ricavi attesi da investimenti già effettuati, quindi quando il legislatore parla di iniziative naturali industriali in qualche maniera chiaramente fa a mio avviso riferimento a una sorta di piano industriale che ovviamente deve essere dimensionato a quella che è la realtà dell'azienda sottoposta a procedura. Quindi al punto C prevede la produzione di un elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e scadere e dell'esistenza di diritti reali personali di garanzia. Questo mi permetto di dire che mi sembra un documento assolutamente necessario, va fatta una esatta individuazione dei creditori, probabilmente i consulenti più esperti probabilmente creeranno già delle classi di creditori, individuando delle priorità, delle esigenze diverse, ma questa deve essere una rappresentazione necessariamente puntuale, anche perché non citare determinati creditori mina quei principi di trasparenza e di collaborazione massima che l'imprenditore deve dare all'esperto. e sotto questo aspetto, attenzione, lo ribadisco, siccome la procedura è estesa a tutte le tipologie di imprenditori, quindi mi rifisco le dimensioni, fate molta attenzione nella redazione di questo elenco dei creditori in presenza di piccole realtà che tengono la contabilità in forma semplificata, perché spesso il consulente dell'imprenditore non è in possesso di quelle informazioni che può avere solo dall'imprenditore. Un imprenditore che non ha un assetto organizzativo adeguato potrebbe avere grosse difficoltà e chiaramente non possiamo preparare un elenco di creditori da produrre in una procedura di questo genere semplicemente basata sulla memoria dell'imprenditore. Quindi si presuppone un'analisi preliminare, probabilmente partendo dal presupposto di una lealtà dell'imprenditore, sarà lui che ci dovrà preliminarmente mettere nelle condizioni di sapere chi sono i creditori e probabilmente un bravo professionista che aiuta l'imprenditore in questa procedura, adatteremo nelle procedure previste per la circolarizzazione, chiederà le conferme per avere certezza che quei credi sono effettivamente corretti e farà anche delle verifiche, delle procedure alternative per poter essere certo che la presentazione del bitore viene depositata in maniera coerente. Più semplice potrebbe sembrare prima vista l'esistenza, la dichiarazione di esistenza di diritti reali personali di garanzia, perché diciamo che esistono una serie di strumenti che ci consentono di avere questo tipo di informazioni e poi sappiamo che comunque c'è un documento che ci aiuta, che è obbligatorio, lo vedremo tra l'altro, che è la visura alla centrale dei rischi, dove normalmente tutte le garanzie poste fuori dal cielo bancario vengono indicate. È chiaro che se ci sono garanzie concesse in favore di terzi privati, in assenza di una espressa informativa data dall'imprenditore, potremmo non venirne a conoscenza. Dottore, sui bilanci chiedevano una precisazione, secondo lei. L'ho messo a deposito nel registro imprese dei bilanci, ancorché predisposti, magari perché l'assemblea dei soci non ha deliberato, non ha raggiunto il cuore un costitutivo deliberativo. È arrestativo all'accesso all'istituto, alla piattaforma da parte dell'impresa? Cioè c'è il bilancio, ma è stato approvato. Mi sento di rispondere, secondo me non è ostativo, anche perché il punto A dice bilancio degli ultimi esercizi, se non è già depositati verso l'ufficio del registro delle imprese. Siccome fa riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi, a mio avviso la norma prevede le ipotesi che non siano stati depositati. Confermo che a mio avviso non è assolutamente ostativo il fatto che non siano stati depositati. Peraltro, se è conseguenza di una mancata prossima parte dell'assemblea. Sì, volevo anche tornare, perché è stato chiesto un ulteriore chiarimento, adesso non c'entra niente, perché le domande purtroppo sono tante, ma non sono sempre anche coerenti a quello che si sta dicendo, magari tornano indietro un attimo e quindi può essere difficile seguirle. Però si chiedeva, sempre tornando un attimo all'indipendenza dell'esperto, così cerchiamo di chiudere su questo tema, si chiedeva una precisazione a quel quesito, che forse non so se era stato chiaro, sul fatto che l'esperto possa essere stato in passato consulente dei creditori. Ecco, mi sembra che abbia detto che dipende dal rapporto, insomma dipende dal rapporto all'articolo 4, comunque specifica, che deve essere indipendente rispetto a tutte le parti. Assolutamente. Ecco, che sia chiaro questo, adesso non so, prima non mi ricordo la risposta esatta che era stata fornita, sulla quale hanno chiesto un chiarimento. Comunque l'articolo 4, è chiaro, non è visto solo in riferimento all'imprenditore, ma anche a tutte le parti coinvolte, l'indipendenza. Assolutamente, assolutamente. Altrimenti non si potrebbe neanche parlare di indipendenza. Ma diciamo, il concetto di indipendenza è non subire nessun tipo di influenza sotto nessun punto di vista. Al di là di quello che è il dettato normativo, io sono convinto che l'esperto, nel momento in cui dichiara di essere indipendente, è nelle condizioni di fare una valutazione assolutamente oggettiva se è o non è indipendente. semmai un ragionamento ulteriore può essere fatto della mancata conoscenza di eventuali legami con l'imprenditore da parte di componenti dello studio. Questo effettivamente l'esperto potrebbe non saperlo, però anche lì non credo che sia complicato, perché se l'esperto nominato, come dire, raduna il collaboratore dello studio, dice sono stato nominato esperto per questa procedura. Avete rapporti di qualche natura, di natura familiare, professionale o quant'altro, che possa minare la mia indipendenza? Anche lì la buona fede deve essere assolutamente il presupposto per questo tipo di procedure. Quindi, ripeto, secondo me ci sono tutti i presupposti per poter garantire l'indipendenza. Almeno questo è il mio modo di vedere ed è anche il mio approccio professionale. Io in qualche maniera so se ci sono dei profili rapporti di dipendenza o meno e soprattutto per quelle ipotesi in cui posso non saperlo, appunto perché possono essere rapporti di collaboratori di studio, ho la possibilità di accertarlo facendo una verifica all'interno dei miei collaboratori. Questo è un po' il mio modo di vedere la questione. Un'ultima questione, poi la lascio andare avanti. È richiesto se questa verifica preventiva della documentazione di cui è l'articolo 5 non dovrebbe essere nominata dalla commissione che nomina l'esperto o addirittura in sede di deposito dell'istanza. Direi assolutamente no. Questo non sia esigibile, nel senso che ancora prima della nomina del segretario generale piattaforma commissione dovrebbe essere valutata la possibile inammissibilità. Ecco, questo non è esigibile perché altrimenti non farebbe più capo. Cioè questa valutazione di inammissibilità non può far capo di un soggetto diverso da quello in capo quale la legge lo prevede. Ecco, questa valutazione deve essere compiuta dall'esperto e non dalla commissione che deve solo nominarlo. No, ma peraltro la commissione non ha gli elementi per sapere se quell'esperto è o non è indipendente. Perché non riconosce tutti i rapporti? No, ma soprattutto, adesso qua si diceva sulla verifica della documentazione, la verifica della documentazione. Non è un esame che compete alla commissione, lì sì che non ci sono le competenze neppure per verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione. A mio avviso questa domanda è utile. Questa è proprio in capo all'esperto, insomma, questo accettamento. No, ma peraltro questa domanda è utile anche per chiarire una cosa essenziale che credo tutti quanti noi che domani decideremo di fare gli esperti dobbiamo avere molto chiara. Questa procedura, il legge del lavoro ha previsto che debba durare 180 giorni. Se la documentazione non è stata predisposta dall'imprenditore in una maniera tale da consentire all'esperto di fare questa valutazione nei 180 giorni, a mio avviso l'esperto è nelle condizioni di poter dire che non ci sono gli elementi per poter valutare, quindi di fatto, a parte che ribadisco, l'esperto deve accettare l'incarico, potrebbe addirittura rifiutarlo, ne verrà nominato un altro, potrebbe rifiutare anche l'altro, quindi attenzione al deposito della documentazione. Non tralasciamo una domanda molto scarna, a mio avviso tra l'altro ho considerato che ciascun esperto non può avere più di due incarichi, l'esperto valuterà seriamente la condizione, la documentazione che viene messa a disposizione dell'imprenditore prima di accettare l'incarico. Se la condizione c'è e però poi ci si sente conto che dall'esame diciamo un po' più capillare questa documentazione frammentaria, manca di tanti elementi o quant'altro, ovviamente si rischia che l'esperto ritenga non ci sono le condizioni per poter fare una valutazione completa della sostenibilità del piano o quant'altro. Quindi su questa cosa mi sento di essere abbastanza definitivo, cioè l'esperto è un terzo che entra a giudicare il lavoro che ha fatto l'imprenditore e i consulenti dell'imprenditore. Non viene chiesto altro all'esperto sotto questo profilo. E peraltro questa analisi nel mio immaginario è un'analisi anche abbastanza veloce che deve fare l'esperto perché poi deve avviare tutto il percorso delle trattative e è lì che deve aiutare l'imprenditore ove ritenga che ci siano le condizioni. E siccome quello è il periodo che richiede l'impiego di maggior tempo, se noi ci concentriamo troppo su un'analisi della documentazione rischiamo di non avere poi il tempo necessario per poter condurre le trattative e portarle a termine. Quindi su questo mi sento di dire che assolutamente l'esperto non può fare nessuna valutazione preliminare, ma tutto questo è un lavoro che va fatto prima di presentare l'istanza. Ecco, c'è un'ultima domanda, ma ripete quello che abbiamo appena detto, sull'indipendenza dell'esperto debba riguardare anche eventuali creditori, debitori del soggetto. Sì, lo dice l'articolo 4 e quindi l'esperto deve, aspettate che lo prendiamo, esattamente cosa dice, sull'indipendenza comunque è riferita a tutti i soggetti. Il professionista, allora aspettate, deve essere in possesso di requisiti. Diciamo che il Congo 1, che il rileggo a beneficio di tutti, dice che l'esperto deve essere in possesso i requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice e non deve essere legata all'impresa o altre parti interessate all'operazione di risanamento dei rapporti in natura personale o professionale. Quindi le altre parti interessate sono i creditori, gli altri soggetti che vedremo che possono essere coinvolti nelle trattative, quindi con nessuno di questi soggetti. E aggiungo, perché qualcuno l'aveva chiesto, che il professionista e i soggetti con i quali eventualmente uniti un'associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni di attività, di lavoro subordinato autonomi in foro dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazione in essa. Quindi c'è un arco temporale che sterilizza questo profilo dell'indipendenza. Cioè negli ultimi cinque anni non bisogna aver avuto rapporti, così come individuato dal comune dell'articolo 4 con l'imprenditore. Ecco invece un'ultima cosa con riguardo alla contabilità semplificata. In quest'ipotesi, allora qui si dice, si tratta di una vecchia questione in relazione alla quale spesso la procura ha stabilito la non correttezza di tenuta delle scritture contabili trattandosi di agevolazione essenzialmente di carattere fiscale. Non si tratta a priori di un impedimento per accedere allo strumento di definizione della crisi? Direi di no, perché il legislatore ha previsto la possibilità di depositare le dichiarazioni IVA e dei redditi e una situazione patrimoniale non più vecchia di sei mesi. Quindi non è ostativo. Però il fatto che non lo sia da un punto di vista formale non significa che non lo possa diventare da un punto di vista sostanziale. Perché ribadisco, se l'esperto non è nelle condizioni di avere quelle informazioni per fare le valutazioni che gli competono, evidentemente potrebbe poi generare la fine della procedura appunto perché non ci sono le condizioni per poter valutare il piano. Quindi anche lì non ci concentriamo. L'aspetto formale è importante perché se formalmente quella ipotesi non è prevista noi non possiamo avviare la procedura. Però non tralasciamo gli aspetti sostanziali che sono sottesi a tutto questo procedimento. Ci sono altre domande? No, no, possiamo andare avanti. Bene, dicevo quindi chiuso l'aspetto che riguarda l'elenco dei creditori su cui anche lì va fatta la dovuta attenzione come dicevo prima, va poi allegata una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento per l'accertamento dello stato di insolvenza. Questo è appunto previsto dalla legge e bisogna sostanzialmente informare l'esperto e quindi chi poi avrà rapporti con l'esperto per la valutazione del piano se sono pendenti, se è pendente appunto un'istanza di fallimento appunto un accertamento di stato di insolvenza. La legge di conversione ha inserito che va anche integrata questa dichiarazione appunto dove bisogna attestare di non aver depositato i ricorsi esenti dell'articolo 161 quindi domande di concordato, preventivo, 182 bis, accordi di ristrutturazione e così via. Quindi questo è un requisito di natura direi più formale. Ecco poi vengono richiesti una serie di documenti anche qui siccome nel programma formativo è chiesto di come dire valutare la natura di questo tipo di documenti vi farò vedere qualcosa che diciamo per i colleghi è abbastanza scontato però è opportuno dedicare qualche minuto. Dicevo i punti E e F e G prevedono l'obbligo del deposito e il certificato unico dei debiti tributari. Il certificato unico dei debiti tributari viene richiesto all'agenzia delle entrate, c'è un format che vi farò vedere più tardi, tenete presente che lo dico per chi non opera nell'ambito delle professioni aziendalistiche che la richiesta di questo certificato presuppone anche lì una tempestità della richiesta perché potrebbero passare anche 30 giorni prima di ottenere questo certificato che poi va analizzato per fare appunto delle valutazioni di merito. Ricordo che il certificato unico dei debiti tributari ha come obiettivo quello di informare sulla pendenza di procedimenti in natura tributaria, quindi se ci sono contenziosi pendenti con l'agenzia delle entrate, se ci sono avvisi di liquidazione che sono tra virgolette quegli avvisi legati alle comunicazioni automatizzate ex articolo 36 bis o 36 terra alle comunicazioni formali, quindi se ci sono pendenze sotto questo profilo, se ci sono accertamenti in corso e se ci sono accertamenti definiti con l'adesione per i quali ancora sono pendenti delle rate di pagamento, quindi riguarda tutta quella sfera dei rapporti con l'agenzia delle entrate dove vengono rappresentate un po' tutte le spese debitorie nei confronti dell'ente. Si differenzia rispetto al documento che è previsto al punto F, la situazione debitoria complessiva richiesta all'agenzia dell'entrata di discussione, quella che appunto riguarda i ruoli per capirci, è più facile comprenderci in questa maniera, dove riguarda tutte le iscrizioni al ruolo pregresse, quindi riferite ad anni precedenti, dove appunto viene stratificato il debito tributario e da lì si può anche comprendere se questo debito tributario è gestito o meno, se ci sono rateizzazioni in corso o quant'altro. Questo va richiesto sempre all'agenzia delle entrate riscossione, c'è un modulo che vi farò vedere più tardi per accedere a questa documentazione. Il punto G richiede il rilascio e il deposio quindi del certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi, questo viene richiesto abitualmente attraverso la piattaforma online dell'INAIL, c'è una direttiva abbastanza recente che più tardi farò vedere dove è spiegata la procedura per ottenere questo certificato che chiaramente ha l'obiettivo di dare una fotografia di quelle che sono le esposizioni e le pendenze di natura previdenziale e assicurativo dell'imprenditore. Anche questo va chiesto con tempestività perché nel provvedimento che vi farò vedere più tardi è previsto che il rilascio può essere fatto fino a 45 giorni prima, quindi ecco perché diventa indispensabile preparare l'imprenditore alla presentazione della domanda. Quindi va fatta una richiesta anche alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e il documento che viene rilasciato deve essere depositato nell'istanza telematica. L'estratto contiene come sapete tutte le informazioni nei confronti del pennente, scusate, tutte le informazioni relative alle esposizioni debitorie e alle garanzie rilasciate dall'imprenditore nei confronti degli istituti bancari e deve essere di data non anteniore a tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. Sapete pure che nel certificato che viene rilasciato dalla Banca d'Italia sono indicati anche tutte le eventuali pratiche che vengono spostate a sofferenza o addirittura precedentemente incagliate, quindi tutte le criticità sulla gestione del debito bancario in capo all'imprenditore. Bene, acquisita questa documentazione e qui una volta di più rispondiamo alla domanda che è arrivata nel corso della mattinata, il comma 4 dice l'esperto verificata la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento dell'incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di recettazione nella piattaforma. In caso di contrario le dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provvede alla sua sostituzione. Come abbiamo già visto l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. Quindi prima fase diciamo immediata, due giorni, l'esperto riceve la nomina, deve fare una prima valutazione appunto quella dell'indipendenza, deve verificare la disponibilità di tempo, considerato sempre che la norma prevede che questa procedura di rito debba durare 180 giorni e verificata appunto tutte queste condizioni deve comunicare l'accettazione dell'incarico. È chiaro, io ovviamente qui parlo per me stesso ma penso di interpretare il pensiero di tanti professionisti, siccome lo vediamo più tardi, l'esperto che è stato nominato ha già accesso alla piattaforma telematica e quindi può avere una visione dei documenti ma non può scaricarli finché non ha accettato l'incarico, secondo me anche lì un minimo di valutazione sulla documentazione che è stata depositata andrà fatta. È chiaramente un'analisi molto ma molto sommaria perché non si possono esaminare nel medio di documenti appunto perché non sono scaricabili, però secondo me una domanda che è poco strutturata potrebbe indurre una valutazione diversa in capo all'esperto. Nel momento in cui appunto l'esperto invece decide di accettare l'incarico deve senza indugio convocare l'imprenditore per valutare l'esistenza di una corretta prospettiva di risanamento anche alla luce tutte le informazioni assunte dall'ordono di controllo o dal revisore legale appunto ove sia stato nominato e ancora in carica. L'imprenditore partecia personalmente e può forse assistere ai suoi consulenti, quindi vedere che c'è una massima apertura dal punto di vista normativo perché appunto lo scopo è quello di favorire l'accordo, quindi non porre ostacoli di natura formale nella gestione di questa procedura. Troviamo in maniera ricorrente questa tempistica senza indugio, questa collaborazione proattiva da parte dei creditori, tutto perché è finalizzato a contenere la procedura in tempi molto contenuti. Se l'esperto ritiene che vi siano appunto le prospettive di risanamento e queste siano effettivamente concrete, comincia a incontrare tutte le parti interessate al processo di risanamento e prospetta tutte le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata, anche qui viene sempre richiamata la tempistica. Piccola riflessione, se l'imprenditore è stato così accorto da preparare ha già chiaro qual è la strategia per poter uscire dalla situazione in cui si trova e quindi accede a questo strumento in maniera consapevole, questo favorisce anche il lavoro dell'esperto perché il piano, chiamiamolo industriale, la strategia per poter arrivare al risanamento, ovviamente piano concreto, è già predisposto dall'imprenditore e viene presentato all'esperto. L'esperto dovrà assumere quel ruolo appunto che viene richiesto dalla legge di essere l'interlocutore, il terzo garante nei confronti dei terzi per esporre questo piano, ovviamente posto che lui si sia convinto della sostenibilità di questo piano, per favorirne l'applicazione. La figura terza dell'esperto dovrebbe porre i creditori nelle condizioni di valutare in maniera più serena quella che è la proposta dell'imprenditore. Ecco che cerchiamo sempre di più di ritagliare e comprendere meglio il ruolo dell'esperto. Se al contrario l'esperto non avvise e vi siano concrete prospettive di risanamento, all'ese della convocazione nel momento successivo dà notizia all'imprenditore, al segretario generale della Camera di Commercio della impossibilità e quindi dispone dell'impossibilità di proseguire la procedura e dispone quindi l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Quindi vedete che in pochi righi c'è tutto il lavoro che stiamo immaginando, se il lavoro è stato compiuto in maniera, passatemi il termine, seria, concreta, effettivamente realizzabile, difficilmente l'esperto potrà sostenere che non ci siano le condizioni. Se si tratta di una soluzione un po' immaginaria, un po' astratta, un po' complessa o magari basata su pochi elementi concreti, ovviamente l'esperto anche sempre nel rispetto di quelle che sono le prisioni normative in tempi molto brevi potrà chiedere l'archiviazione della composizione negoziata. Il COM6 prevede che entro tre giorni della comunicazione e della convocazione le parti possono presentare delle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto e anche qui veniamo alla domanda che aveva fatto prima il partecipante, ecco un altro profilo di responsabilità, se l'esperto dichiara in maniera non troppo trasparente la sussistenza della dipendenza già la norma prevede che possano essere formulate le osservazioni e deve essere informato anche la commissione che ha valutato l'esperto e quindi deve valutarne anche la sua sostituzione. È chiaro che se dovessero emergere profili di responsabilità nel rilascio di quella dichiarazione che è una autocertificazione, questo ve lo anticipo, c'è già scritto nella norma e lo vedremo anche nel modello, è chiaro che la commissione sarà tenuta a darne comunicazione all'ordine professionale di riferimento e quindi si potrebbe, anzi senza sì, si aprirà un procedimento disciplinare nei confronti dell'esperto, quindi le responsabilità anche sotto questo profilo c'è modo di poterle accertare. L'esperto, l'incarito dell'esperto come ho già detto più volte nel corso della mattinata si considera concluso se decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomi le parti non hanno individuato anche a seguito di una proposta avanzata dell'esperto una soluzione adeguata per il superamento della crisi. Come abbiamo visto l'incarico può proseguire per non oltre 180 giorni e quando tutte le parti lo richiede nell'esperto via consente può essere proseguito l'incarico in questo caso per un periodo sempre non superiore a ulteriori 180 giorni. In caso di sostituzione dell'esperto, questo è utile saperlo, il periodo di 180 giorni non decorre dalla nomina del sostituto ma decorre dalla nomina del primo esperto, quindi vedete che in tutte le maniere possibili il legislatore ha messo dei tempi chiari sulla gestione di questa procedura. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce appunto nella piattaforma e comunica all'imprenditore e nel caso in cui si sono state concesse le misure produttive appunto anche al giudice che le emesse la cessazione appunto della procedura e quindi la cessazione anche delle misure protettive. Bene, questo è l'articolo che disciplina da un punto di vista procedurale appunto la composizione negoziata dove dentro appunto il legislatore ha messo un po' quelli che sono tutti gli attori, gli imprenditori, i consulenti dell'imprenditore, l'esperto e in qualche maniera ci entra già anche il tribunale, la magistratura perché già si comincia a parlare misure produttive, si cominciano a vedere quelli che sono gli aspetti legati a delle analisi che vengono demandate appunto alla magistratura. Nel caso delle misure protettive, io qui mi limiterò soltanto a guardare solo gli aspetti procedurali perché nel merito già è stato fatto un intervento in tal senso e ci saranno altri relatori nel corso di questo corso che lo affronteranno, però siccome siamo in una fase proattiva di presentazione… Sì, sì, no scusi. Prima di passare a questo tema magari volevo… proviamo a rispondere alle domande che sono arrivate nel tempo perché sono diverse e che così chiudiamo. Vuol dire che c'è interesse. C'è interesse e soprattutto sono domande che attengono alla figura dell'esperto quella che è l'attività che in concreto deve svolgere in questo primo momento. E quindi, ad esempio, si chiede… Il software… Ah, bene, questo non riguarda l'esperto, questo riguarda l'imprenditore e la documentazione. Si dice il software consente la presentazione della domanda in mancanza anche uno solo dei documenti di quale lettere è E e H dell'articolo 5,3. Adesso io non so se l'hai provato, se c'è stato… Io non so se sono campi bloccanti o meno. Allora, io ho fatto delle simulazioni e su alcuni documenti obbligatori segnala l'alert e non fa andare avanti se non vengono completati. Quindi sono campi bloccanti. Poi è evidente che se per superare il campo bloccante uno scrive XYZ e allega un documento vuoto, questo poi sarà valutato dall'esperto. Insomma, le modalità per superare un campo bloccante ci sono sempre ma non portano a niente. Sì, perché sono dei flag. Se viene flagato e poi si carica un documento… Facciamo l'esempio proprio fuori da ogni norma. Il foglio bianco è chiaro che, diciamo… Cioè, si supera il campo bloccante ma poi non si arriva a nulla perché comunque la valutazione sarà la medesima. E poi ha chiesto se l'esperto che deve accettare l'incarico non ha accesso alla documentazione depositata dall'imprenditore, come può valutare la sua indipendenza rispetto agli eventuali creditori e debitori dell'impresa? No, ma ha accesso. Cioè nel momento in cui… Non può scaricare i documenti, ma li può vedere. Perché altrimenti neanche rispetto al debitore, voglio dire, e anche per quel che riguarda l'idoneità, deve vedere anche i caratteri dimensionali dell'impresa, le caratteristiche dell'impresa per valutare l'idoneità della propria preparazione a svolgere questo incarico. Per cui un esame della documentazione, per quanto sommario, nel tempo che gli ha consentito per l'accettazione dell'incarico, deve essere… Ma aggiungo di più, giusto per dare un'idea anche del tipo di informazioni che sono presenti sulla piattaforma. Prendiamo il caso dei gruppi società. C'è l'obbligo di indicare tutte le società facenti parte, con tutte le compagini sociali. Faccio questo esempio per dire che l'imprenditore, scusate l'esperto, è nelle condizioni di poter avere… Per dita individuale ci sono tutti i dati dell'imprenditore già nell'home page. Se si tratta di società o gruppi societari, ci sono tutte le informazioni per poter valutare l'indipendenza. È chiaro che questa cosa, mi sento di dire, è assolutamente comprensibile. Il fatto che sia stato previsto che l'esperto, finché non accetti l'incarico, non può entrare in possesso fisicamente dei documenti quando non li possa scaricare e li può solo visionare. Mi sembra una norma anche, come dire, in ottemperanza della normativa sulla pratica, è assolutamente corretta e coerente. Però ci sono tutte le condizioni per poter valutare. Ecco, poi si dice che forse una sanzione disciplinare potrebbe essere eccessiva se questa valutazione è solo sommaria. Ecco, allora, noi abbiamo ipotizzato un profilo disciplinare per il professionista che in una situazione di indipendenza può essere verificata anche successivamente, perché in ogni momento può succedere che si scopra che ci sono altri creditori o una situazione che in un primo momento non è emersa. Ecco, il tema disciplinare che abbiamo congiuntamente rilevato attiene all'ipotesi in cui, nonostante si sia accorto di queste cose, abbia proseguito. Ma se in qualsiasi momento si accorge di qualche profilo per il quale può essere stato direttamente coinvolto con taluna delle parti, io credo che a quel punto si deve astenere dall'incarico, rimette gli atti e la Commissione nominerà qualcuno in sua sostituzione. È la prosecuzione dell'incarico, insomma, in una situazione che non è più quella di trasparenza e di indipendenza, di terzi età che invece gli è richiesta. Diciamo che in questo caso valgono le norme non scritte su quelle scritte, cioè il buon senso e la buona fede. Se io lo vengo a sapere, me ne accorgo dopo, sono in buona fede perché in quel momento non ne ero a conoscenza, lo comunicherò immediatamente alla Commissione facendo una relazione, beh, io credo che possa essere solo apprezzato questo aspetto. È un dovere, chiaramente, perché se io continuo commetto un illecito. Certo. E poi si chiedeva, questa convocazione dell'imprenditore e dei creditori dove si svolge, nell'esperto, locali messi a disposizione della CCA? Ecco, io escludo chi ci sia, cioè non c'è un'indicazione sul luogo per cui potrebbe essere presso l'imprenditore, potrebbe essere presso il professionista, poi insomma, quello dipende dall'accordo dalle parti, dal numero delle persone coinvolte, credo che non ci sono... In era pandemica, direi, anche in formato da remoto potrebbe avvenire. Esatto, anzi, forse preferibilmente da remoto, perlomeno in una prima fase. Più che altro, ecco, questa domanda mi dà spunto per fare un altro tipo di riflessione, e questo non mancherà certamente all'esperto, accertare effettivamente gli interlocutori con cui abbiamo queste interlocuzioni, che effettivamente siano le persone con cui possiamo trattare, ma questo anche lì, diciamo, il buonsenso presuppone la necessità di accertare l'identità dell'interlocutore con cui abbiamo a che fare. E poi un'altra cosa importantissima, non è scritto da nessuna parte, c'è un documento della nostra Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti che lo ha già previsto, preparare tutti i verbali legati a questi incontri, perché questa documentazione che rimane acquisita agli atti dell'esperto deve appunto provare l'esecuzione di tutte queste interlocuzioni, quindi a mio avviso bisogna essere molto prudenti e assolutamente prevedere come gestire questi incontri per avere appunto consapevolezza domani e poterlo dimostrare nelle serie dove si dovesse ritenere opportuno presentarli. Ecco, ultimo aspetto che è chiesto di approfondire, che non attiene espressamente alla piattaforma e alla documentazione, ma all'ammissibilità, all'accesso. Si chiede se una società che ha ottenuto magari anche anni fa l'omologazione di un concordato preventivo e quindi sia in una fase esecutiva, non più nell'ambito della procedura concorsuale, possa accedere a questo strumento. Ritengo che non ci siano preclusioni, cioè magari per un'insolvenza nuova, qui ipotizza un'ipotesi di un'impresa che ha proseguito la sua attività, si verifica un'insolvenza nuova, peraltro fuori dall'ambito dell'esecuzione del concordato. Diciamo che se il concordato è stato eseguito e la procedura si è chiusa positivamente e poi nel tempo si dovesse presentare altre particolari esigenze legate appunto a nuove crisi di liquidità, non vedo perché debba essere. Ma anche se è ancora in corso di esecuzione, quindi ragionevole. In corso di esecuzione c'è anche il problema della deroga fino al 31 dicembre 2021 che sarà inserito prima nel decreto legge 2118, poi lì va forse analizzato il caso specifico. Infatti, andiamo pure avanti. Andiamo avanti dieci minuti e poi alle 11 facciamo una pausa. Benissimo. Bene, allora questi dieci minuti li utilizziamo appunto per vedere come chiedere le misure protettive. L'articolo 6 appunto disciplina le misure protettive e l'articolo 7 disciplina il procedimento che è legato alla richiesta delle misure protettive. Diciamo subito che, giusto per inquadrarlo, lo ha già fatto, è stato fatto ampiamente domani. Esattamente, però in maniera molto sintetica e veloce appunto con l'istanza di nomina, c'è un flag che poi vedremo, possono essere chieste appunto le misure protettive. L'applicazione delle misure protettive sul patrimonio della società, dell'imprenditore, insomma di chi fa istanza per la procedura. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono più acquisire diritti di prelazione se non sono stati concordati con l'imprenditore. Non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio appunto e sui beni o sui diritti legali dell'impresa con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Non sono inibiti i pagamenti. In qualche maniera il legislatore dietro questo articolo ha voluto individuare un po' tutto l'ambito di questo profilo delle misure protettive. Vedremo più avanti nell'articolo 8 se non ricordo male sono previste altre forme di misure protettive, cioè non applicazione alle norme sulla perdita del capitale sociale e quant'altro, ma qui concentriamoci più che altro su questi aspetti, cioè il fatto che con la richiesta delle misure protettive accade quello che per esempio accade nelle procedure di sovraindebitamento con l'omologazione di un accordo o con la dichiarazione di liquidazione cioè che si sospendono tutte le procedure fino a quando non venga adempiuto l'accordo o liquidato il patrimonio. Ecco, qui non è una cosa automatica, deve essere assolutamente richiesta dall'imprenditore perché in assenza di una specifica richiesta le misure protettive non vengono applicate e quindi chiunque può continuare a proseguire, potrebbe proseguire le azioni esecutive già inviate o potrebbe acquisire privilegio o quant'altro. Quindi anche questo è oggetto, entriamo nella sostanza di valutazione a monte tra l'imprenditore e i propri consulenti nella predisposizione del piano e quindi anche della situazione in cui si trova in quell'istante l'impresa a valutare la necessità di ricorrere a queste misure protettive o meno. Il fatto che non siano i pagamenti è un'altra cosa estremamente importante perché questo viene vista in un'ottica di continuità, quindi il fatto di poter continuare a fare i pagamenti presuppone, lo vediamo anche più avanti nelle altre norme, il fatto che tutto sommato la gestione ovviamente è prevista, non siamo in una situazione irreversibile di decozione tale per il quale l'imprenditore deve richiedere il proprio fallimento, siamo in una situazione in cui stiamo provando a rimettere sul mercato l'azienda. Con l'istanza di richieste delle misure protettive, l'imprenditore inserisce nella piattaforma una dichiarazione sull'esistenza delle misure, quindi le deve analizzare e indicare in maniera puntuale di tutte le misure cautelari o esecutive disposte nei suoi confronti e deve anche aggiornare l'esito delle dichiarazioni che ha già reso ai sensi dell'articolo 5,3, cioè impendenza di dichiarazioni di fallimento o accertamento allo stato di insolvenza, quindi quando chiede le misure protettive deve tra i documenti allegare l'elenco di tutte queste procedure pennenti e a sua volta deve aggiornare sullo stato delle istanze eventualmente presentate per la dichiarazione di fallimento. Sono esclusi alle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, ma anche questo credo che sia assolutamente corretto, non vedo particolari riflessioni di senso negativo il fatto che il legislatore abbia voluto tutelare una parte senza dubbio debole nel processo aziendale che quindi vada salvaguardata. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al commone fino alla conclusione delle trattative o all'archivazione della distanza di composizione negoziata, la sentenza di creativa e fallimento di accertamento allo stato di insolvenza non può essere pronunciata. Ecco perché va fatta una valutazione, è chiaro che voglio fare un ragionamento un po' più ampio, l'imprenditore tra virgolette serio che sta provando a salvare la sua azienda, consapevole difficoltà, che sta tentando ovviamente nel modo molto più aziendalistico possibile, nel rispetto chiaramente a tutte le norme, di salvare l'azienda che però è in una situazione diciamo di abbastanza patologia perché è già ricevuta l'istanza di fallimento, lì la misura produttiva diventa essenziale, però dico di più, l'esperto secondo me ha una ulteriore responsabilità nella valutazione di quella che è la sostenibilità del piano perché non deve essere visto questo strumento come uno strumento per prendere del tempo e non ottenere la dichiarazione di fallimento. Dico una cosa assolutamente scontata, ne sono consapevole, però io mi metto un attimo nell'ottica dell'esperto, cioè l'esperto deve valutare in maniera forse ancora più approfondita se quel piano ha una sua sostenibilità e perché l'azienda si sia trovata quindi quasi sul barodo del fallimento con la presentazione delle istanze di fallimento. Probabilmente anche una valutazione del perché ci sono quelle istanze di fallimento, non è detto che ci sia una situazione di decozione così evidente perché magari può essere un solo creditore, può essere legato a tridi particolari, cioè diciamo va fatta anche una valutazione sotto questo profilo, è chiaro che sono pendenti tante istanze, il profilo che stiamo valutando è completamente differente. Altra cosa che è utile sapere, i creditori interessati nelle misure produttive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarne in danno dell'imprenditore. Per il solo fatto è il mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Altro profilo importante delle misure protettive. Quindi ripeto, non voglio entrare nei profili giuridici che saranno affrontati meglio di me da altri relatori che seguiranno queste relazioni, ma concentriamoci sulla valutazione aziendalistica dell'articolo 6, quindi dell'opportunità di chiedere le misure produttive e quali possono essere le finalità anche alla luce del quinto comma. Quindi valutare i contratti in essere, io così mentre parlo faccio riferimento all'ipotesi di contratti anche di affidamento bancario dove appunto vengono posti tutta una serie di vincoli e la banca, questa norma ha un impatto importante nel mondo bancario perché appunto nel caso della misura protettiva siamo nelle condizioni di poter mantenere in vita dei contratti che diversamente potrebbero essere oggetti di regola. Quindi sono tutti profili che vanno inquadrati all'interno della domanda che viene presentata nella piattaforma. Chiudiamo questa prima fase vedendo velocemente gli aspetti procedurali, anche qui mi limito semplicemente a elencarli perché non è competenza mia, però voglio farvi soltanto notare gli aspetti legati alla tempistica, anche qui estremamente invasivi. Nel momento in cui chiediamo la misura protettiva attraverso appunto un'istanza che può essere fatta con il ricorso che viene presentato appunto nella piattaforma telematica deve essere richiesta la conferma o la misura delle modifiche protettive dove accorre con un ricorso che deve essere depositato al tribunale competente lo stesso giorno in cui viene pubblicato il registro delle imprese, la richiesta della pubblicazione delle misure protettive e la nomina dell'esperto. Quindi c'è una tempistica immediata, deve essere tutto pronto sostanzialmente. E peraltro la norma prevede che nei 30 giorni successivi al deposito del ricorso in tribunale debba essere fatta la comunicazione al registro delle imprese per la pubblicazione del numero di ruolo legato al procedimento instaurato per la conferma delle misure protettive. Quindi che sia chiaro un po' a tutti, la norma ci dice chiediamo le misure protettive in una fase tra virgolette stragiudiziale attraverso la presentazione della domanda, la misura protettiva presuppone una conferma da parte di un magistrato attraverso questo procedimento. Chiudo facendo semplicemente notare che l'emesso al ritardato deposito del ricorso in tribunale nel giorno stesso in cui appunto si pubblica il registro delle imprese la richiesta delle misure protettive è causa di inefficacia delle misure stesse e queste decadono automaticamente nei 30 giorni successivi. Quindi diciamo che è uno di quei casi in cui il termine è perentorio appena di ricadenza. O lo faccio oppure ho vanificato la mia richiesta di misure protettive. Se ci sono domande... Grazie dottore, direi che le riprendiamo dopo all'esito della pausa. Dieci minuti, un quarto d'ora? Un quarto d'ora, allora ci rivediamo alle 11 e 15. Grazie a tutti. Vi aspetta un coffee break salendo le scale. Nel frattempo è arrivato anche il successivo relatore, il dottor Francesco Palanza. Adesso riprendiamo i lavori ancora trattando della piattaforma, in particolare la vedremo operativamente attraverso le slide predisposte dal dottor Stella. Volevo prima rispondere ad alcune delle domande che nel frattempo sono pervenute, sono veramente moltissime, cerchiamo di raggrupparle per temi. Poi se vi restano dei dubbi o se non riusciamo a dare risposta, magari riproponetele anche nelle successive sessioni, se sono pertinenti, in maniera tale che magari in un altro momento riusciamo comunque a rispondere anche a queste, nel senso che cerchiamo a tutti i vostri dubbi di provare a fornire una soluzione. Allora, si chiedeva ancora con riguardo all'indipendenza un ulteriore aspetto, se colui che è nominato esperto non abbia avuto rapporti diretti con l'imprenditore e con i suoi creditori, ma piuttosto magari con l'impresa concorrente, se si è il consulente dell'impresa concorrente. Che cosa succede in questo caso? Ecco, a mio avviso dobbiamo essere particolarmente rigorosi, per cui quando si dice che non deve aver avuto rapporti con le parti interessate, può essere benissimo ricompreso anche tra le parti comunque interessate alla ristrutturazione di quel determinato imprenditore, ovviamente c'è anche un concorrente, per cui ci sono anche i concorrenti, per cui a mio avviso il concetto di indipendenza va interpretato in maniera assolutamente ristrittiva e quando il professionista esamina quella che è la sua posizione rispetto all'impresa deve anche tener conto di tutti questi aspetti. Restituisco la parola al dottor Stella perché risponde alle altre domande che invece attenevano alla documentazione, al piano di restanamento. Ok, grazie dottoressa. Allora, confermo quello che vi ho appena detto dottoressa De Simone, cioè se ci sono altre domande o qualcuna che ci è sfuggita riproponetele eventualmente nel corso della mattinata forniremo le risposte. Intanto avevo segnato alcune delle domande, una riguardava la durata del piano finanziario. Allora, la durata del piano finanziario per legge è previsto di almeno sei mesi, però anche lì buonsenso vuole che il piano deve essere parametrato a quello che è la strategia che io ho previsto per il risanamento dell'azienda. Se io prevedo che la definizione di questo percorso prevede tempi più lunghi, con le dovute accortezze, stiamo parlando di piani previsionali, sono sempre previsioni, stime, ma devo proiettarle in avanti. Quindi la norma ci impone che sia di almeno sei mesi, ma non esclude che vada più avanti. Effettivamente, a secondo di quella che è la realtà aziendale che affrontiamo, alla problematica che afferisce all'azienda che si trova in crisi, potrebbe essere assolutamente insufficiente un piano a sei mesi, ma deve essere almeno a sei mesi. Quindi va certamente valutata la possibilità di presentare un piano ulteriore o addirittura fare delle previsioni di medio e lungo termine. Un'altra domanda che è stata posta era se il piano di risanamento, ove non venga presentato nella piattaforma, sia causa di ammissibilità o meno. Certamente il piano di risanamento non è un documento che è richiesto dall'articolo 5. Gli documenti obbligatori sono quelli indicati nell'articolo 5. Il piano di risanamento però, come ho avuto modo di dire nella prima parte della mattinata, se non è già previsto dall'imprenditore ed è rimesso a una valutazione dell'esperto che deve partire da zero sostanzialmente, è tutto molto più complicato. Il piano di risanamento, a mio modesto avviso, sempre dimensionato a quella che è la realtà aziendale di cui si parla, va assolutamente previsto tra i documenti da predisporre. Magari verrà consegnato successivamente all'esperto nel momento in cui c'è l'incontro con l'imprenditore e con i consulenti dell'imprenditore, ma il piano di risanamento secondo me è nella parte sostanziale un documento importante, non nell'aspetto formale, perché appunto la legge non prevede la presentazione del piano di risanamento, ma è un documento che assolutamente va a mio avviso predisposto. Aggiungo, era un'altra delle domande che era pervenuta, l'esperto, come abbiamo letto nell'articolo 4, può chiedere tutta la documentazione integrativa tutte le informazioni non solo all'imprenditore, ma anche al revisore legale o al sindaco dove è nominato, al collegio sindacale. Quindi è chiaro che l'interesse dell'esperto è acquisire tutta la documentazione che gli consente di valutare la prospettiva di risanamento e soprattutto presentarla agli interlocutori con cui dovrà interfacciarsi per portare avanti il procedimento. Quindi le integrazioni documentali sono assolutamente previste dalla legge, la legge dà ampio spazio a quello che è un mandato per l'esperto. Un'altra domanda prevedeva, che è stata formulata, riguardava la nomina dei codiutori da parte dell'esperto. Beh, diciamo qui è chiaro che il rapporto fiduciario non può che essere tra l'esperto e il codiutore che viene nominato. La nomina, abbiamo visto, la norma è demandata all'esperto, quindi non c'è un organo terzo che nomina il codiutore dell'esperto e l'esperto si dovrà avvalere di quelle figure che o per questioni di natura operativa o per questioni di natura professionale possono completare quel bagaglio di conoscenze di cui lui ha bisogno per portare avanti il piano. La nomina è certamente rimessa all'esperto perché il rapporto fiduciario deve essere appunto tra di loro e ribadisco anche il codiutore in qualche maniera, senza in qualche maniera, deve avere quei requisiti di indipendenza che ha l'esperto perché se nomino come codiutore un parente dell'imprenditore chiaramente viene meno anche l'indipendenza dell'esperto. Quindi diciamo sono cose abbastanza scontate ma può essere utile chiarirle. Il compenso del codiutore chiaramente è a carico dell'esperto perché l'articolo 16, non ricordo male, individua le modalità di calcolo del compenso dell'esperto, non è previsto un compenso per il codiutore. Quindi tutti i costi per il codiutore a mio avviso rientrano certamente all'interno del compenso dell'esperto. Spero di aver dato risposta a una serie delle domande che sono pervenute, chiaramente sono qui a vostra disposizione per eventuali ultimi. Ce ne sono altre che attengono alle misure protettive e alle autorizzazioni del Tribunale ma per quelle, ripeto, c'è la sessione intera di domani mattina, ne parleremo per quattro ore ininterrottamente per cui cercheremo in quel contesto di dare risposta a queste varie domande. Proseguiamo quindi sulla piattaforma. Tengo a precisare appunto che ho citato le norme e le misure protettive più per una questione procedurale, lungi da me l'idea di poter entrare in profili giuridici che non mi appartengono, quindi meglio di me domani i relatori qualificatissimi vi potranno chiarire e approfondire tutta una serie di aspetti giuridici. Tra le misure protettive, dicevo, l'articolo 8 prevede anche la sostituzione degli obblighi obblighi di causa di scioglimento previsti dai vari articoli del Codice Civile, non so qui a leggerveli anche perché anche questo sarà oggetto di approfondimento domani, l'unica cosa che è utile sapere è che quando l'imprenditore intende avvalersi di questa sospensione di obblighi deve farne espressa richiesta con l'istanza di nomine. C'è un flag che vedremo più avanti che va smarcato per chiedere appunto l'applicazione di questo tipo di, rientra in qualche maniera in una figura in misura protettiva, anche se di natura diversa rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Quindi, ecco, un altro aspetto importante, questo riguarda chi come me, come noi dell'area aziendalistica ci occupiamo degli aspetti appunto dell'impresa, della gestione dell'impresa. La gestione dell'impresa chiaramente durante la procedura va assolutamente avanti, va avanti in tutti i sensi, l'articolo 9 chiarisce in maniera direi inequivocabile che l'imprenditore nel corso delle trattative conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quindi l'imprenditore di stato di crisi deve semplicemente, scusatemi se uso questa parola semplicemente, deve semplicemente preoccuparsi di non intaccare la sostenibilità del piano economico finanziario che ha previsto per il risanamento dell'azienda, ma all'inno di questo piano tutta la gestione ordinaria e straordinaria va assolutamente avanti e va avanti in capo all'imprenditore. Non poniamoci il dubbio che l'esperto sia assimilabile alla figura del curatore fallimentare e quindi sia il curatore che porta avanti la parte liquidatoria, perché il curatore ovviamente liquida. Qui rimane in carica l'imprenditore, il consiglio di amministrazione in caso di società o quant'altro. Gli organi sociali rimangono tutti in carica in pienezza dei poteri. Tengo a sottolineare che gli organi di controllo hanno l'obbligo di vigilare già previsto per legge, ma anche nell'ottica dell'adeguamento al piano di risanamento che è stato previsto. Quindi rimane un obbligo di vigilanza in capo al collegio sindacale o al sindaco unito. Invece una cosa che va attenzionata e non sottovalutare, questo dimostra una volta di più quel rapporto di perfetta sinergia e buona fede che si deve instaurare tra l'imprenditore e l'esperto. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto per iscritto del compimento di atti straordinari e amministrazione, nonché dell'esecuzione dei pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Quindi il legislatore ha previsto che ci possono essere fatti straordinari o pagamenti diversi rispetto a quelli previsti nel piano. E questo è anche corretto, l'azienda è dinamica, non è caratterizzata da fenomeni di staticità, quindi possono verificarsi degli eventi che devono avere delle conseguenze delle risposte e quindi atti di straordinari e amministrazione possono essere effettuati, ma deve essere prevenimenti informato l'esperto e l'esperto deve dare in qualche maniera il consenso. Infatti il comma 3 prevede che l'esperto quando ridiene l'atto può regare pregiudizio ai creditori alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore all'ordine di controllo. Quindi c'è una sorta di consenso inverso, se lo ritiene coerente col piano l'imprenditore ottenuto l'assenso dell'esperto può proseguire. Diversamente invece diventa obbligatorio l'esperto segnali per iscritto all'imprenditore che quell'atto nuoce al piano e che quindi non deve essere compiuto. Qui mi piace leggerlo perché anche qui rimostra quale deve essere l'approccio tra l'imprenditore e l'esperto, se nonostante la segnalazione dell'atto viene compiuto, l'imprenditore informa immediatamente l'esperto il quale nei successivi dieci giorni può iscrivere il proprio dissenso e registro delle imprese e quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori l'iscrizione è obbligatoria. Bene, qual è la riflessione? L'imprenditore che fa un atto di straordinaria amministrazione contro il parere dell'esperto è già un atto importante e si assume una responsabilità significativa. La legge gli impone di fare la segnalazione per iscritto all'esperto e gli dice guarda che nonostante il fatto che tu mi hai detto che quell'atto non si poteva fare perché poteva nuocere, io l'ho fatto lo stesso e ti devo informare per iscritto. Ragioniamo un po' per chi ha a che fare con gli imprenditori e comprendere in quale ottica si devono proiettare gli imprenditori e qui l'ho detto già più volte stamattina importantissimo il ruolo dei consulenti che affiancano l'imprenditore perché sono norme che possono avere una difficoltà di comprensione per un imprenditore appunto che non conosce questi aspetti giuridici e di natura anche aziendalisti. Aggiungo che quando sono state concesse le misure protettive l'esperto deve segnalarlo per iscritto al tribunale che può revocare anche le misure protettive. Quindi potete capire quanto può essere invasivo l'esecuzione di un atto di straordinaria amministrazione o comunque di un atto contrario a quello che è il parere dell'esperto. Anche su questo potrebbero venire fuori una serie di riflessioni su quello che è il rapporto tra l'imprenditore appunto e l'esperto, un rapporto animato da piena collaborazione che ha l'unico obiettivo di portare a termine un piano che effettivamente si ritiene coerente per il risanamento dell'azienda dovrebbe viaggiare con una certa serenità. Diversamente i contrasti che possiamo individuare nella lettura di questa norma diventa uno strumento di tutela essenziale per i terzi e diventa uno strumento importante in mano all'esperto anche per esimerlo da responsabilità che potrebbe assumere. Infatti viene precisato in maniera chiara che quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori l'iscrizione al registro delle imprese è obbligatoria. Quindi conoscibilità a tutti di quello che è l'operato dell'imprenditore. Questa parte la tralascio integralmente perché sarà oggetto di ulteriori imporfondimenti. L'unica cosa che voglio segnalare perché è una peculiarità molto interessante di questo strumento è che previa autorizzazione del tribunale tra i tanti strumenti che possono essere messi in atto c'è quello appunto di poter trasferire l'azienda o alcuni rami di azienda senza l'applicazione degli effetti dell'articolo 2560 secondo commerce del codice civile, ossia il trasferimento dei debiti legati all'impresa. Ciò è consentito previa autorizzazione del tribunale ma è uno strumento estremamente interessante per la salvaguardia di quei rami di aziende o di quelle aziende che vengono magari appesantiti da una gestione finanziaria errata, diciamo che non è andata secondo previsioni, lascio a voi la fantasia del prevedere perché si può essere appesantita, però il fatto di poter scollegare la parte caratteristica aziendalistica o ritenuta meritevole di rimanere sul mercato rispetto a quella che è la gestione finanziaria sicuramente è uno degli strumenti che deve essere un serio oggetto di valutazione. Sapete peraltro che il codice civile prevede esattamente l'opposto, quindi questa deroga è proprio finalizzata a poter realizzare appunto attraverso la composizione realizzata della crisi di impresa il la salvaguardia appunto del ramo aziendale. Anche questa parte la salto integralmente perché non è di particolare interesse rispetto alla questione della salvaguardia, voglio semplicemente, sono profili giuridici che verranno affrontati da altri, ma voglio solo per consentire a tutti di avere una ampia cognizione di quello che possono essere le condizioni di un piano. Ricordare che l'articolo 12 prevede la conservazione di una serie di effetti legati alla procedura di risanamento. Tra questi ricordiamo che non sono soggetti all'azione evocatoria cui alla legge fallimentare tutti gli atti, pagamenti e le garanzie posti in essa all'imprenditore nel periodo in cui era pennente questa procedura, purché siano all'interno del piano e siano coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e delle prospettive di risanamento. Quindi questo per mettere anche i terzi che hanno rapporti dell'imprenditore di non incorrere nel rischio delle revocatorie. Quindi uno strumento di protezione al contrario, cioè nei confronti dei terzi, di estrema utilità. Peraltro già previsto anche in altre procedure di salvaguardia della crisi di impresa, accordi di strutturazione e quant'altro. Ancora gli atti straordinati amministrazioni e pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico che da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni revocatorie per gli articoli 66 e 67 della legge fallimentare, quando l'esperto è scritto il proprio dissenso nel registro delle imprese. Guardate quanto è importante il ruolo dell'esperto sotto questo profilo. Esperto che deve essere attento a verificare qual è il comportamento dell'imprenditore, quindi mette le mani nella gestione finanziaria, nella gestione straordinaria che come abbiamo visto rimane in capo all'imprenditore, ma deve vigilare perché un'omessa vigilanza potrebbe generare dei danni ai terzi. E l'esercizio dell'azione revocatoria per quegli atti che sono oggetto della revocatoria possono salvaguardare la prosecuzione del piano. credo di avere completato la parte relativa agli effetti indotti, di tutti gli altri aspetti, ripeto, parleranno altri relatori meglio di me. Ecco, l'ultima cosa che voglio ricordare è che l'accesso alla piattaforma è consentita solo all'imprenditore e ai propri consulenti, quindi l'istanza deve essere firmata all'imprenditore, ma esiste anche in capo all'organo di controllo, quindi al collegio sindacato e al sindaco unico, un obbligo di segnalare all'imprenditore la possibilità di accedere a questa procedura, ovvero ritengono che ci siano da un lato le condizioni e dall'altro si manifestino dei rischi di insolvenza. Quindi questo diventa un dovere dell'organo di controllo che, come abbiamo visto, rimane in carica e ha l'obbligo di vigilanza e la tempestiva segnalazione dell'organo amministrativo viene assolutamente considerata, come già previsto nel decreto legislativo 14 del 2019, come valutazione da parte della responsabilità del collegio sindacale. L'articolo, e chiudo perché qualcuno lo ha domandato, del compenso dell'esperto è disciplinato all'articolo 16, non entro nei parametri, chi è interessato a suo riguardo, l'unica cosa che voglio precisare è che in mancanza di accordo tra le parti, il compenso viene liquidato dalla commissione e come i compensi dei CTU è assistito da una sorta di provvisoria esecuzione, quindi sostanzialmente con il titolo, con la liquidazione fatta dalla commissione si può direttamente agire per la riscossione del proprio compenso. Il compenso diventa prededucibile in caso di dichiarazione di fallimento. Chiudo l'aspetto normativo e poi vediamo velocemente la piattaforma, lasciando poi spazio all'intervento del collega, il legislatore ha previsto una differenziazione per le imprese sotto soglie, cioè le imprese che non hanno i requisiti, o meglio non raggiungono le soglie previste all'articolo 1 della legge fallimentare. In questo caso l'istanza, oltre che essere presentata nella piattaforma telematica e tra un attimo vedremo, può essere presentata anche all'organismo di composizione della crisi sovra indebitamento. In questo caso la nomina dell'esperto viene fatta dall'organismo di composizione della crisi sovra indebitamento. Tengo a sottolineare che questa norma si applica solo agli imprenditori cosiddetti non fallibili sotto soglie per i quali si può applicare appunto anche la legge 3 del 2012. Bene, a questo punto chiuderei la parte normativa e andrei in quello che è la parte diciamo pratica della piattaforma e vedrei molto velocemente, giusto per dare a tutti quanti una idea di quello che è la struttura normativa che ha fondato la costruzione della piattaforma telematica. Questo è il decreto dirigenziale che è stato emanato dal Ministero della Giustizia. Ovviamente mi concentro solo sulla sezione quinta che riguarda la piattaforma, disciplina tutta una serie di altri documenti che tralascio in questo momento. La piattaforma anche qui prevede una parte generale che vi farò vedere tra un attimo dove è messo a disposizione il test pratico che è accessibile a tutti e dove vengono date tutte le informazioni per l'utilizzo della piattaforma. I requisiti dell'utilizzo della piattaforma diciamo basta un pc e non sono richieste particolari competenze può accedere alla piattaforma come vi dicevo chiunque nella parte pubblica, nella parte riservata può accedere l'imprenditore, i professionisti a utilizzare l'imprenditore, l'esperto e la commissione che nomina l'esperto. Abbiamo già visto che ne abbiamo parlato stamattina nell'area pubblica oltre a tutte le informazioni si possono scaricare anche tutti i documenti che aiutano alla compilazione della domanda e sostanzialmente sono i documenti che abbiamo già visto stamattina nel corso della mia trattazione e nell'area riservata invece possono accedere come dicevo solo gli utenti autorizzati e tra questi appunto il rappresentante legale dell'impresa, tutti i consulenti autorizzati, l'organo di controllo, il segretario generale della camera di commercio, i membri della commissione, l'esperto, i creditori invitati al legale rappresentante o i suoi delegati, ogni altro soggetto espressamente invitato dal legale rappresentante o dei suoi delegati. Diciamo che sono individuati in maniera tassativa, non credo che si lasci interpretazione a altri possibili accessi. Scusate, io ne approfitto invece per dire una cosa che riguarda il PCT. Ho seguito il corso organizzato da DGCIA con riguardo a queste nuove funzionalità che saranno legate agli atti autorizzativi e per quanto riguarda l'accesso, perché anche quello magari avete dei dubbi su chi può accedere e come, tenete presente che l'esperto potrà accedere alla parte del PCT in cui è gestito il procedimento per le misure autorizzative piuttosto che per le misure protettive, a prescindere dall'accettazione dell'incarico, cioè non è come per le consulenze tecniche piuttosto come l'incarico del curatore che può accedere solo successivamente all'accettazione dell'incarico. In questo caso si prescinde perché la nomina dell'esperto in realtà è allegata al momento, è inallegato, cioè l'esperto non è una parte del procedimento, vi accede ma la sua nomina è semplicemente allegata da chi, dall'imprenditore che propone la domanda e quindi a quella parte dei registri di cancelleria accede direttamente. Bene, grazie. Allora dicevo stamattina che l'accesso alla piattaforma viene in forma differenziata e qui nel decreto dirigenziale è espressamente previsto che il rappresentante legale dell'impresa e i suoi delegati possono accedere a tutti i documenti salvo quelli che l'esperto voglia ritenere riservati, quindi li deve secretare sostanzialmente l'esperto. Il segretario generale e i membri della commissione hanno accesso a tutte le istanze di competenza con tutta la documentazione allegata ma non possono scaricare la documentazione, quindi c'è soltanto un accesso di visibilità sostanzialmente. L'esperto ha accesso a tutta la documentazione dell'istanza di cui è stato nominato ma fino al momento in cui non accetta l'incarico può semplicemente prenderne visione, ne abbiamo già parlato stamattina. L'esperto ovviamente ha accesso anche a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma dopo che avrà accettato l'incarico. L'esperto può creare anche dei cassetti informatici all'interno del fascicolo consentendo l'accesso riservato a soggetti che lo stesso autorizza, quindi nell'ottica delle trattative potrebbe dare appunto accesso ad alcuni creditori per ragioni più varie, ma è una facoltà che è rimessa all'esperto, quindi la gestione della piattaforma sotto questo profilo è nelle mani dell'esperto, così come i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'esperto col consenso dell'imprenditore accedono alla piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati che gli vengono richiesti. Ecco, questo è un altro aspetto importante che risponde è anche una serie di domande che sono state formulate, cioè la possibilità di acquisire ulteriori informazioni o documenti. È lo stesso esperto che li può chiedere, è lo stesso esperto che può chiedere tra virgolette anche delle verifiche all'esterno invitando appunto soggetti terzi a immettere le proprie posizioni creditorie all'interno di questi cassetti informatici che vengono appositamente creati. Ovviamente quando viene chiuso il procedimento viene archiviato, in caso di cesare dell'incarico viene archiviato l'accesso alla piattaforma e viene creato un fascicolo che può essere scaricato dall'esperto e dall'imprenditore, però chiaramente l'accesso poi viene definitivamente chiuso rispetto alla procedura che è stata o archiviata oppure definita per cessazione dell'incarico. Un altro aspetto importante di questa piattaforma anche essa gestita dall'esperto è l'area segretaria per la presentazione delle offerte, la cosiddetta virtual data room, ormai tanto di moda oggi. Viene creata anche qui dall'esperto, deve contenere un'apposita area dove possono accedere soltanto i soggetti offerenti e previa autorizzazione i soggetti interessati possono acquisire tutte quelle informazioni relativi ai beni, all'azienda, al ramo d'azienda che può essere oggetto della vendita. Quindi diventa una sorta di area riservata per acquisire le informazioni e successivamente per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati. Il decreto legislativo, scusate, il decreto dirigenziale prevede anche una procedura di emergenza nel caso di la procedura informatica che non dovesse funzionare per oltre 24 ore e in questo caso per ragioni di urgenza l'istanza può essere presentata via Pecco, via Raccomandata, presso la Camera di Commercio dove è iscritta la società proponente. Questo riguarda appunto il decreto dirigenziale la gestione della piattaforma. Vi farei vedere molto velocemente l'istanza online, ne abbiamo in qualche maniera già parlato vedendo l'articolo 5, il decreto dirigenziale di fatto ricalca quello che è la struttura della norma e individua tutti gli elementi necessari che bisogna inserire nell'istanza online, i dati anagrafici, il fatturato dell'ultimo esercizio, il numero dei dipendenti, il codice ATECO delle attività principali, in caso di appartenza a un gruppo bisogna allegare tutte le informazioni sulla struttura del gruppo, tutti i vincoli partecipativi e contrattuali, l'indicazione delle imprese e dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità di esenzio dell'articolo 2487 bis e così via. Va anche precisato se la domanda vale come richiesta unitaria per tutto il gruppo o che riguardi soltanto una società e non tutto l'intero gruppo. Poi gli allegati li abbiamo già visti, la relazione chiara e sintetica, la descrizione dell'impresa afferente appunto quello che è il suo modello di business, la tipologia delle difficoltà economiche e finanziarie, in qualche maniera c'è una sorta di esemplificazione di quelli che sono degli elementi riteniamoli essenziali per la predisposizione di questa relazione. Il piano finanziario che deve essere come vi dicevo almeno a sei mesi e tutte le eventuali iniziative industriali che si intendono adottare per poter risanare l'azienda. E semplificamente vengono riportati il contenimento di costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive, tutte le strategie aziendali che possono stare dietro la predisposizione di un piano di risanamento. Quindi abbiamo già parlato dell'obbligo di deposito degli ultimi tre bilanci e se non depositati nel registro delle imprese possono essere depositati in questa sede allegandoli alla domanda o delle dichiarazioni del reddi e IVA dei precedenti tre periodi di imposta. Quindi la situazione patrimoniale economica e finanziaria è aggiornata da non oltre 60 giorni, l'elenco dei creditori l'abbiamo già visto e qui vedete, l'avevo già parlato stamattina, ovvero possibile individuando le classi di creditori, quindi sostanzialmente differenziando i debiti verso i dipendenti, verso i fornitori, verso le banche, verso l'erario, verso gli enti previdenziali, in qualche maniera aiutando a individuare l'eventuale ordine di privilegi presenti per legge o perché conseguenze di garanzia o quant'altro. L'autodichiarazione che non sono pendenti o sono pendenti ricorsi per la dichiarazione di fallimento e poi ne abbiamo già parlato, il certificato unico debiti tributari, situazione debitoria nei confronti dell'agenzia di entreriscossione e il documento della centrale dei rischi. Poi va precisato nella piattaforma se l'imprenditore ha redatto il test online che è quello che tra poco il nostro collega ci farà vedere e va precisato anche se l'imprenditore per il piano di risanamento necessita di nuove risorse finanziarie urgenti e quale sia la provenienza, quindi chi sono i soggetti che possono apportarle e se, peraltro, lo abbiamo già detto anche questo, se l'imprenditore intende avvalersi di misure protettive, quelle previste dall'articolo 8, cioè la sospensione delle norme legate alla perdita del cambiamento sociale o della messa in liquidazione. Questo sostanzialmente è l'allegato 2 del decreto dirigenziale dove viene esemplificatamente indicato il contenuto dell'istanza online. Vi avevo parlato stamattina dell'accettazione dell'esperto, questa è la dichiarazione di accettazione della nomina dell'esperto che deve essere depositata entro due giorni nella piattaforma telematica. È una semplice dichiarazione dove vengono riportati i dati dell'esperto e dove dichiara quello che abbiamo visto nella norma, cioè di essere iscritto nell'elenco, di aver esaminato attraverso la piattaforma telematica domanda e la documentazione estallegata e aver certato il possesso di requisiti di indipendenza, di essere munito delle necessarie competenze, di non avere in corso altri incarichi, comunque non più di due, come abbiamo detto, e di accettare l'incarico. Questa dichiarazione depositata nel fascicolo telematico avvia di fatto il procedimento di composizione. Dato che sono le 12 io entrerei direttamente nella piattaforma così poi se ci sono altre domande abbiamo tempo per dedicarci. Allora questo è l'area pubblica del sito della composizione negoziata. L'accesso è semplicissimo, il sito è www.composizionenegoziata.com.it Vedete che questa è la parte, come dicevo, pubblica, è un sito che scorre e man mano che scorrete vi riporta a quelli che sono tutti gli elementi che stamattina abbiamo già ampiamente discusso. Vi parla molto sinteticamente della piattaforma, vi spiega qual è il processo apertura dell'istanza, nomi del soggetto idoneo, accettazione dell'incarica, la conduzione delle trattative. Qui sono richiamati tutta una serie di informazioni ulteriori che spiegano sostanzialmente le cose di cui abbiamo già parlato stamattina, quindi non mi trattengo su questo aspetto. Invece una cosa che può essere utile vedere sono i documenti che come vi dicevo sono disponibili sulla piattaforma. Qui abbiamo i soggetti coinvolti, è data una sintetica rappresentazione di quello che è l'accesso consentito al rappresentante dell'impresa, i professionisti dell'impresa, quindi la visibilità della documentazione, il segretario della Camera dei Commerci, i membri della Commissione. Ripeto, non mi trattengo perché sono cose molto schematiche, non voglio togliere tempo magari a cose più importanti ancora da affrontare. Qui sono tutti gli aspetti di cui abbiamo già parlato guardando l'istanza online. Qui c'è invece il famoso test pratico preliminare. Ci sono le istruzioni per la redazione del test che alla fine, se lo guardiamo in quello che è il suo contenuto, ma qui mi rimetto poi alla relazione del collega, è un file Excel che vi farà vedere lui più tardi, si può scaricare, si compila e poi si può allegare alla domanda. Invece la piattaforma si può scorrere anche attraverso questi menu, ma andiamo sempre a vedere le pagi che abbiamo già visto. L'accesso al servizio può essere fatto con speed, con credenziali nazionali e così via. Diciamo che l'accesso più comodo sicuramente è quello dello speed. E con lo speed può accedere sia l'imprenditore che l'esperto dopo che è stato nominato, perché diversamente l'esperto non ha possibilità di accesso al sito. Adesso io vi farò vedere quello che è il contenuto della piattaforma con l'accesso riservato che ho fatto io qualche giorno fa per fare una simulazione. Questa è la piattaforma di accesso dove insieme al saluto vi ricordano immediatamente, vi danno un avviso che per accedere a questa piattaforma e usufruirne bisogna pagare e che quindi in attesa che venga emanato il decreto che stabilirà quale sarà il tariffario va ricordato semplicemente appunto che è previsto un contributo per la gestione del sito, della procedura negoziata per essere più precisi. Successivamente, ecco, vedete, questa è la schermata di accesso. Ancora non abbiamo presentato l'istanza, non abbiamo neanche aperto l'istanza e questo è il visuo della prima pagina dove ci sono i dati del soggetto che ha accesso. In questo caso io sono entrato come rappresentante di un'impresa e quindi ci sono i miei dati anagrafici, devo completarlo con la PEC che poi diventa lo strumento dove riceverò tutte le comunicazioni. Quindi vi aiuta a sapere se siete legali rappresentanti di quale imprese. Ovviamente vi compaiono anche le imprese dove siete curatori fallimentari, come nel caso mio, non ho motivo di accedere, però chiaramente tutte le comunicazioni che avete fatto al registro delle imprese vi risulteranno elencate e sceglierete voi l'impresa per la quale presentare l'istanza. Quindi avviamo il percorso dell'istanza, compi l'istanza. Vedete che c'è già il protocollo, istanze di negoziazione, quando io ho fatto la simulazione l'altra sera, questa era la 178esima. Immagino che siano tutti i tentativi fatti da colleghi per comprendere il funzionamento della piattaforma, non credo che ancora siano state presentate delle istanze. Questo comunque è il protocollo che viene assegnato all'istanza. Vi segnalo che l'istanza può essere compilata anche in più momenti, si può salvare la parte che avete già predisposto. Quindi ecco che entriamo nella compilazione, dovete indicare il codice ATECO dell'attività, in questo caso lo prende automaticamente da quello che è comunicato al registro delle imprese, dovete comunicare il fatturato, questo è un dato che non è conosciuto al registro delle imprese, quindi va inserito, e il stesso discorso vale per il numero dei dipendenti. Dopodiché ecco i flag di cui parlavamo stamattina, dovete indicare se si tratta di impresa sotto soglia, e va cliccato il flag, se l'imprenditore ha redatto il test online lo deve indicare, l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie per evitare un danno grave e irreperabile all'attività aziendale, lo deve indicare, intende avvalersi il regime di sospensione dell'articolo 8, quindi le perdite di capitale sociale o le cause di scioglimento, lo deve indicare, se si tratta di appartenenza, un gruppo anche qui lo deve indicare, sono tutti i flag che vanno smarcati. Quindi questa è la stessa pagina, per farvi vedere poi si va avanti, o si può salvare la bozza del lavoro già fa. Nella schermata successiva, vengono allegati tutti i documenti di cui abbiamo ampiamente parlato stamattina. Il formato deve essere in pdf e deve essere firmato digitalmente dall'imprenditore. C'è una dimensione massima prevista di un megabyte per i documenti da allegare e qui ecco che va messa, relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziata, una sintetica descrizione e qui va caricata la documentazione relativa alla relazione sintetica. Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, stesso discorso, l'elenco dei creditori, l'autodeclarazione degli eventuali ricorsi pendenti, pendenti ripartiamo sempre di stanze di fallimento, domande di concordato o così via, l'allegazione del certificato unico dei debiti tributari, l'allegazione della situazione di debitoria complessiva, il certificato dei contributi dei debiti nei confronti del... E poi andando più avanti vedete, anche qui, l'allegazione dei tre bilanci avviene in maniera, se vogliamo, automatica, scegli da registro delle imprese, quindi si può direttamente importare il bilancio che è stato depositato dal registro delle imprese, ove il bilancio non è stato depositato per qualunque ragione, può essere caricato automaticamente nella piattaforma. Sì, a me mi pare addirittura che dal testo normativo se sono già depositati non sia neppure necessario. Però vanno inseriti nella piattaforma, cioè vanno, scegli da registro delle imprese. In qualche maniera è indicato nella piattaforma che bisogna o caricarlo o bisogna metterlo nel fascicolo. Esatto. Sì, allora forse non c'è un allineamento perfetto rispetto al dispositivo, cioè della piattaforma, nel senso che la... No, ma la piattaforma diceva ove non già depositare il registro delle imprese, perché probabilmente lo spirito è se sono già depositati non li devi indicare tu perché li puoi prelevare direttamente alla capire di con me. Forse in quel senso. E quindi ecco perché è stata data questa... Ah, cioè nel senso che c'è scritto inserisce, invece lì vengono praticamente richiamati... Esattamente. E vengono acquisiti... Anche perché l'esperto se non li acquisisce attraverso questa piattaforma dovrebbe fare un accesso autonomo alla Camera di Commercio per avere... al registro delle imprese per avere il possesso di quei bilanci. Invece così è la stessa Camera di Commercio che li mette a disposizione. Se lo fa l'esperto autonomamente deve sostenere anche un costo. Non è una cosa automatica. Quindi è stato previsto proprio per una semplificazione della procedura, secondo me. Anche qui si può andare avanti. Nel momento di aver compilato la domanda vi viene ri-elencato tutto quello che avete flegato e quant'altro e dopodiché la domanda dopo che è stata completata si può scaricare il riepilogo. Ancora non l'avete presentata la domanda quindi siete voi che state scaricando il contenuto di quello che avete inserito nel portale e successivamente si fa invia e la domanda viene protocollata. Si può correggere? Avete provato? Si possono portare delle modifiche? Ritengo che una volta che sia stata inviata non sia modificabile almeno attraverso il canale telematico. Cioè probabilmente si può integrare successivamente dopo che è stato nominato l'esperto o non è scritto da nessuna parte ma posso immaginare che magari la commissione possa chiedere un'integrazione o documentazione. Non lo so. Ora andiamo veramente a tentoni però non credo che con nel momento in cui successivamente davanti all'esperto poi si integra davanti all'esperto certamente tutta la documentazione che non è stata legata a quale documentazione obbligatoria può essere integrata. Ma ripeto da un punto di vista informatico non credo che sia modificabile nel momento in cui è stata inviata. Questo in sintesi è quello che possiamo vedere noi comuni mortali della piattaforma domani quando saremo esperti avremo anche l'accesso all'area riservata all'esperto e quindi a tutta quella parte che abbiamo già visto per la creazione dei cassetti informatici e alla virtual data room e così via. Io mi fermerei qui fermo restando che se ci sono domande sono ovviamente disponibili e se volete vedere ma mi sembra eccessiva anche la compilazione delle domande per chi chiede dei certificati unici o quant'altro sono modelli scaricabili da internet mi sembra molto banale come dire mostrarli in questa sede. Vediamo magari all'esito se rimanessi tempo ecco infatti adesso la ringrazio quindi per questa lunga carrellata che insomma ha un po' riassunto quello che è la normativa di riferimento della piattaforma e quelli che sono i dati a disposizione in questo momento che abbiamo per poter comprendere come vi accede l'imprenditore passiamo ora ad una illustrazione preliminare da parte del dottor Francesco Palanza dottore commercialista in Torino del test che l'imprenditore potrà compiere di autodiagnosi forse ora un'illustrazione preliminare poi nel pomeriggio mi sembra di aver capito un'esemplificazione pratica sullo stesso punto la parola quindi al dottor Palanza grazie non sono arrivate domande dottore grazie buongiorno grazie ringrazio per la presentazione per l'occasione di partecipare a questo convegno che sto seguendo con voi diciamo come come discente e oggi ho anche occasione di di esprimervi qualche qualche mia riflessione su su questa materia completamente nuova visto che dell'argomento ne parlo anche oggi pomeriggio con il professor Capalbo direi stamattina facciamo magari un'introduzione sull'argomento un'analisi di contesto ma approfitterei magari solo per due osservazioni barra domande al collega che si è occupato della piattaforma perché seguendo la sua illustrazione qualche 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 spunto mi è venuto ho visto che nel nell'allegato si indica fra i soggetti che possono accedere alla piattaforma anche l'organo di controllo il collegio sindacale il revisore allora parto da una una vicenda che che insomma penso fosse più un'anomalia di sistema che altro nel senso che anche io ho fatto la mia prova di accesso al sistema e mi mi sono ritrovato fra le imprese per le quali potevo fare istanza anche un'impresa di cui ero presidente nel collegio sindacale l'anomalia è derivata dal fatto che a registro imprese io risultavo rappresentante legale quindi per un errore di censimento di quell'impresa e quindi mi sono ritrovato in questa facoltà di presentare istanza nella realtà io credo che il collegio sindacale a questa piattaforma potrà accedere soltanto in funzione di consultazione perché mi sembra che il principio fondante è che tutta questa procedura è nella esclusiva autonomia e disponibilità dell'imprenditore il collegio sindacale può svolgere anzi deve svolgere un'attività di impulso è anche previsto normativamente ma non credo che possa accedere alla piattaforma per autonomamente intervenire sui dati caricati ma io ritengo che in effetti sia stata consentita questa facoltà più che altro per rispetto dell'obbligo di vigilanza cioè siccome rimane in carica ed è espressamente prevista nella norma che deve vigilare anche sulla prospettiva di adempimento sia del piano proposto e sia della fattibilità dello stesso quindi diciamo la realizzabilità del piano credo che questa facoltà sia assolutamente consentita per consentire il controllo che è previsto dall'articolo 2407 se non ricordo male l'altro l'altro spunto che mi ponevo e mi sembra di aver capito che la piattaforma consentirà anche l'acquisizione di dati sulle posizioni creditorie dei creditori o una cosa di questo tipo questo a parte quelli qualificati che devono essere espressamente indicati come documentazione obbligatoria poi bisogna depositare l'elenco di tutti i creditori e l'esperto ha la possibilità di chiedere tra virgolette delle verifiche e quindi di consentire ai creditori di depositare anche le proprie chiamiamole dichiarazioni di credito comunque la prova del credito questo ovviamente l'esperto possa avere dei dubbi sulla quantificazione del credito si questa è una forma di riscontro esterno che un po' richiama le prassi di circolarizzazione dei creditori quando si soprattutto vi è qualche dubbio sulla completezza della situazione debitoria rappresentata dall'imprenditore mi sembra uno strumento tutto sommato utile anche perché formalizza forse il processo di raccolta delle informazioni rende tutto più lo velocizza peraltro perché evitiamo tutta una serie di procedimenti autonomi cioè tu è tutto trasparente all'interno del sito ed è verificabile da tutti certo grazie passando all'argomento al nostro argomento il tema che è preliminare all'analisi del test di autovalutazione è il concetto di risanabilità dell'impresa che è un tema che permea tutto il decreto decreto legge quindi la norma e permea il decreto dirigenziale è un tema che evidentemente è un po' il leitmotiv della 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 composizione negoziale vediamo che all'articolo 2.1 la norma ci dice che l'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa quindi il risanamento dell'impresa è una valutazione prima di tutto dell'imprenditore e questa è una constatazione del fatto che il primo di norma ad accorgersi di una situazione di crisi è normalmente l'imprenditore anche se poi vi è un tema di emersione di quella crisi o di percezione delle reali cause di quella crisi quindi è l'imprenditore che rileva l'esistenza di condizioni predisponenti che sono diciamo un requisito oggettivo di accesso alla procedura di accesso al processo al procedimento e che svolge una valutazione preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa diciamo che forse il merito anzi sicuramente il proposito di questa di questa composizione negoziata è sicuramente quello di prendere atto che il soggetto consapevole della situazione di crisi il primo soggetto consapevole della situazione di crisi è l'imprenditore con la composizione negoziata si è voluto creare uno strumento che aiutasse l'imprenditore a fare outing sulla situazione di crisi senza avere il timore di innescare meccanismi devastanti e innescare valanghe che non può controllare poi il timore rimarrà sicuramente l'imprenditore continuerà ad essere resistente a questo tipo di iniziative soprattutto se non adeguatamente consigliato e istruito sulla novità culturale che è sottostante questa disposizione però è probabile che avendo un percorso che spiega dall'inizio alla fine quel che succede e quali sono i momenti di effettiva rottura che si creano nel percorso l'imprenditore sarà più invogliato la valutazione di risanabilità dell'impresa passa poi sotto l'occhio dell'esperto perché andiamo all'articolo 5 comma 5 del decreto che ci dice che l'esperto una volta che ha accettato l'incarico convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo del revisore o vincarica se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete dà avvio alle trattative se ritiene che non sussistano prospettive concrete ne dà comunicazione all'imprenditore e provoca l'archiviazione dell'istanza questa è una parafasi diciamo non è la norma però è il concetto è la sostanza dell'articolo parafrasato cosa vuol dire? vuol dire che abbiamo l'imprenditore che ha autovalutato la propria crisi interviene l'esperto che svolge una valutazione diciamo di secondo livello sulla valutazione dell'imprenditore se vogliamo dare se vogliamo dare qualche peso alle parole possiamo dire che la valutazione dell'imprenditore è di ragionevole perseguibilità qui è la mentalità dell'imprenditore magari ottimistica la valutazione dell'esperto è invece una valutazione di concretezza vedremo nel corso dell'esposizione che l'esperto come è stato ripetuto non è un attestatore quindi non deve non deve svolgere prognosi probabilistiche di percorribilità di fattibilità però evidentemente all'esperto che ha una competenza anzi che è lì proprio perché ha una competenza specifica all'esperto si richiede un quid pluris rispetto alla valutazione dell'imprenditore che è quello di dire se le prospettazioni dell'imprenditore se ci sono e se sono adeguate le prospettazioni sono munite di adeguata concretezza e vedremo poi come come si scava in questa concretezza come si arriva a comprendere se vi è una concretezza la sezione 3 del decreto dirigenziale ci dice che l'incarico dell'esperto si conclude in qualunque momento in cui ritenga anche a seguito dell'interlocuzione con le parti interessate che non sussisto sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento anche in via indiretta quindi il concetto della risanabilità che continua diciamo in varie parti del dato normativo ricordiamo ad esempio che l'imprenditore che vuole accedere a misure protettive o cautelari deve autocertificare sempre sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità che l'impresa può essere risanata quindi ripete questa valutazione in questo caso siccome siamo in una fase giudiziale la ripete in forma di autocertificazione quindi non è più solo un oggetto dell'istanza ma è anzi una dichiarazione che va subiudice l'articolo 9,1 la prospettiva di risanamento torna a essere una valutazione fondamentale quando durante le trattative emerge una situazione di insolvenza dell'impresa allora in quel caso la norma ci dice che la situazione di insolvenza lo vedremo meglio nel prosieguo la situazione di insolvenza non comporta di per sé o necessariamente il mancato accesso alla composizione negoziata o la revoca del processo in corso ma questo a condizione che permanga una valutazione di una prospettiva di concreta risanabilità e poi ancora il canone della prospettiva di risanamento torna nelle disposizioni già menzionate sugli atti di straordinaria amministrazione sui pagamenti per i quali vale la regola che devono essere oggetto di segnalazione quando nel loro dispiegarsi possono determinare un danno alle trattative o un danno alle prospettive di risanamento quindi questo è il contesto il contesto di valutazione in cui ripetiamo il primo compito dell'esperto dopo aver accettato l'incarico aver esaminato la documentazione che è stata allegata al fascicolo è quello di valutare se la composizione è negoziata e percorribile ed è una valutazione naturalmente di tipo prognostico fatta sulla base inizialmente di un set informativo documentale definito ma che l'esperto poi avrà cura di integrare via via che procede nello svolgimento della propria attività si parte e qui vado rapidamente però mi sembra rilevante ricordarlo si parte dalla documentazione che è stata depositata con l'istanza che ho riepilogato non la ripeto faccio forse un minimo di focus su quelli che sono i documenti maggiormente importanti cioè la relazione dell'imprenditore che è una relazione che deve avere un contenuto in parte indicato dalla norma ma che dovrà essere con l'ausilio dei professionisti integrata con tutto quello che servirà all'esperto per procedere con maggiore speditezza tenuto conto che l'esperto in questa fase deve decidere se vi è motivo di avviare le trattative o meno il piano di tesoreria il piano finanziario il piano di tesoreria sei mesi che ha una sua utilità molto particolare che vedremo e le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare quello che si può senz'altro dire è che la valutazione dell'esperto in questo caso è una valutazione che è fondamentale anche se poi andando a guardare la norma non è mi sembra di capire che non è una valutazione formalizzata mi spiego si chiede all'esperto di avviare le trattative se vi sono concrete prospettive di risanamento non c'è un momento una volta che l'imprenditore ha depositato l'istanza e l'esperto ha accettato il proprio incarico si apre una fase che va avanti fin quando l'esperto non chiede non provoca l'archiviazione del procedimento non abbiamo una fase in cui l'esperto fa una dichiarazione di risanabilità dell'impresa perché questo non è il ruolo dell'esperto non è una dichiarazione richiesta all'esperto l'esperto non è un attestatore ma è una valutazione che è comunque molto importante perché fin quando le trattative rimangono aperte voi sapete l'abbiamo imparato anche nelle scorse sessioni fin quando le trattative rimangono aperte si producono effetti che hanno una loro rilevanza sostanziale siccome per la sua stessa natura la composizione negoziale non non ha fenomeni di retrodatazione né di interruzione fin quando la trattativa è aperta i termini continuano a decorrere quindi anche i fini delle eventuali revocatorie non ci sarà non si deve perdere tempo non si deve perdere tempo anche nel caso in cui l'impresa che si presenta all'esperto si trova in condizioni economicamente disagiate nelle quali vi è una distruzione di ricchezza perché anche in questo caso man mano finché procedono le trattative non si interrompe questo fenomeno di erosione di valore però nonostante questo la valutazione dell'esperto è una valutazione non formalizzata ma sostanzialmente molto rilevante su che cosa si concentra la valutazione dell'esperto qui possiamo distinguere c'è una domanda posto che la gestione prosegue meglio deve proseguire l'esperto oltre a verificare la concreta perseguibilità del risanamento deve anche riscontrare la possibile continuità aziendale nei 180 giorni di durata della procedura allora questo sì anche se penso che non sia un requisito sostanziale nel senso che l'esperto si ritrova nel momento in cui si presenta l'imprenditore a lui si ritrova con un piano di tesoreria a sei mesi e quello io come lo leggo lo leggo come uno uno strumento nel quale si palesano eventuali fabbisogni finanziari a breve che peraltro abbiamo visto in piattaforma l'imprenditore deve indicare con un flag se ha dei fabbisogni finanziari a breve e due anche come strumento con cui valutare il matching fra liquidità in entrata e liquidità in uscita e quindi rifare quel famoso DSCR che consente del codice della crisi quel famoso DSCR che consente di valutare la sussistenza quantomeno di una sostenibilità finanziaria nei prossimi sei mesi è un dato molto rilevante però mi verrebbe da dire siccome è una norma concepita non per la patologia ma per la situazione fisiologica mi verrebbe da dire che l'esperto non dovrebbe trovarsi a dover valutare la continuità aziendale quantomeno non dal punto di vista finanziario poi è certo che se l'esperto si ritrova di fronte a una situazione disastrata magari anche contabilmente disordinata e di incapacità di fronteggiare i flussi finanziari senza emissione di risorse che l'imprenditore in fase di prima presentazione non individua beh allora in quel caso l'esperto direi accetta ringrazia chiude e saluta perché non si può fare non si può fare null'altro direi che potranno forse capitare situazioni magari non presidiate da professionisti di fiducia di imprenditori che depositano una situazione di decozione sperando che l'esperto sia il salvatore della patria e che dicendogli che di qui a sei mesi ci servono 500 mila euro per finanziare il circolante e riprendere a girare lui troverà il modo di procurarceli forse se l'idea è questa sicuramente va da sé la valutazione sulla continuità c'è un altro una richiesta di un chiarimento che riguarda il tema dell'autocertificazione adesso però forse non riesco a intendere bene la domanda qui si dice l'autocertificazione è uno strumento normalmente utilizzato per certificare condizioni certe che valore effettivo può avere un'autocertificazione in un giudizio complesso come quello del risanamento possibilità di risanamento ma per la possibilità di risanamento deve essere depositata una relazione non è una certificazione la certificazione in effetti riguarda solo quelle che sono la domanda credo che faccia riferimento alla fase delle misure cautelari protettive nelle quali fra le varie informazioni che l'imprenditore deve depositare c'è anche un'autocertificazione sulle prospettive di risanamento che in effetti credo che sia un'autocertificazione in una composizione riguardasse l'articolo 5 invece no 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 l'abbiamo menzionata adesso l'articolo 7,2 si è questo quindi si esatto è quello è naturale però diciamo che è un'autocertificazione che riguarda l'esistenza delle condizioni in presenza delle quali lui ha valutato che il risanamento sia fattibile è ovvio che è un'autocertificazione con una valenza un po' particolare ecco però c'è un'assunzione di responsabilità diciamo da parte dell'imprenditore con riguardo a quelle che sono le sue condizioni più che altro penso che sia in questo senso è come se mi dichiarasse che quello che sta dicendo la valutazione che sta facendo è una valutazione basata su ipotesi ragionevoli su elementi concreti su elementi concreti una mera speranza ecco no mi scusi l'ho interrotta no no è molto opportune sono confronti assolutamente opportuni dicevamo la valutazione dell'esperto la valutazione dell'esperto io direi che si può articolare in diversi gradi di intervento partiamo dal grado nel quale l'imprenditore ha depositato l'istanza ma non ha ancora presentato il piano quindi abbiamo un set informativo un po' meno completo un posto che anch'io sono dell'idea che il piano ci voglia e ci voglia quanto prima che soprattutto in situazioni nelle quali è necessario magari attivare strumenti di finanza interinale o nelle quali vi sono disequilibri anche economici quindi il piano è un documento che ci vorrà nella maggior parte dei casi però assumiamo che il piano non ci sia direi che l'esperto calibrerà la propria valutazione partendo da il livello minimo quello che sembra sembra dirci il decreto il decreto sembra dirci che ci sono condizioni nelle quali l'esperto si basa e semplicemente sul set informativo che si si trova davanti e quindi senza necessità di approfondimenti ulteriori il che se vogliamo ha anche senso perché coglie il senso della snellezza del procedimento e coglie anche il fatto che comunque l'esperto una volta che ha accettato l'incarico ha periodo fisiologico nel quale deve prendere contezza della situazione in cui si trova quindi inizialmente può anche basarsi su un primo strato di informazioni che è quello rappresentato dall'imprenditore poi però l'esperto deve andare un po' più a fondo e questa come calibrare l'intervento dipenderà necessariamente anche dal livello di affidabilità dell'informativa che si trova di complessità della situazione e di affidabilità dell'informativa che si trova di fronte complessità della situazione sta a significare quanto è grave e quanto è impegnativo il risanamento richiesto affidabilità dell'informativa la percezione che ha l'esperto di trovarsi di fronte a un imprenditore che ha adeguati assetti di amministrativo e contabile adeguati assetti organizzativi anche ai sensi dell'articolo 2086 che mi sembra giusto ricordarlo e rimane precondizione del buon funzionamento della composizione negoziata in funzione appunto della situazione al cospetto della quale si troverà l'esperto calibrerà le verifiche le proprie verifiche di conseguenza è ovvio che in presenza di una situazione contabile disastrata ammesso e non concesso che l'esperto ritenga di continuare a nella composizione negoziata saranno richieste tipologie di riscontri più significativi rispetto a una situazione invece contabilmente ordinata dove esiste un sistema di management accounting che funziona insomma dove tutto sembra girare in modo corretto io ho provato a elencare una serie di informazioni che l'esperto deve osservare anche in assenza di un piano all'inizio della propria esperienza e a mio avviso si parte sicuramente dall'acquisizione della situazione contabile quella che l'imprenditore deve aver precaricato nella piattaforma e poi attraverso il confronto con l'imprenditore l'analisi della situazione delle cause della crisi e la loro manifestazione direi che le cause della crisi sono il primo passaggio per comprendere se l'analisi delle cause della crisi è il primo passaggio per comprendere l'origine delle situazioni di squilibrio che con il risanamento con la composizione negoziata si vuole andare a correggere e quindi sono anche il prerequisito per comprendere se le idee che ha l'imprenditore le sue strategie industriali le sue iniziative sono corrette e adeguate rispetto alla correzione del problema poi ovviamente l'esperto esaminerà il test che è stato fatto dall'imprenditore e a mio avviso dovrà anche verificarne dovrà riperformarlo con l'imprenditore verificandone una quadratura con i dati contabili disponibili dovrà verificarne sarà opportuno che ne verifichi almeno a campione ma direi a seconda della complessità della situazione anche a tappeto la coerenza con tutte le evidenze esterne che sono caricate in piattaforma e lo sono a mio avviso non per un caso ma perché l'esperto dovrà comunque tenerne conto quindi noi in piattaforma ci ritroveremo le certificazioni dei carichi fiscali pendenti e la certificazione dei contributi non pagati dei premi assicurativi non pagati la certificazione degli importi iscritti a ruolo l'indicazione diciamo l'estratto conto degli importi iscritti a ruolo ci troveremo anche la centrale rischi quindi tutta una serie di evidenze esterne che l'esperto a mio avviso deve incrociare per verificare in una fase iniziale che quantomeno le informazioni che l'imprenditore ha indicato nell'effettuare il test sono informazioni corrette se l'imprenditore non ha fatto il test sono sicuramente informazioni che l'imprenditore deve e che l'esperto deve considerare per formare insieme all'imprenditore il test e il piano di tesoreria sei mesi l'abbiamo già detto perché l'esperto deve cogliere da questo piano l'esistenza di una sostenibilità finanziaria nel breve ed eventualmente anche cogliere se è fondata la richiesta dell'imprenditore di accedere a forme di finanza interinale detto che ha maggior ragione tornando al discorso del piano se vi è una richiesta di accesso a finanza interinale a mio avviso l'imprenditore deve fornire all'esperto un set documentale più significativo rispetto a quello minimale previsto dall'istanza perché è sicuramente un set documentale che deve comprendere il piano perché bisogna porre in condizione questo esperto di capire se la finanza che viene richiesta è una finanza che è utile a creare valore o sia una finanza che invece rischia di ammalorare ulteriormente la situazione dell'esperto questo diciamo in linea di in primo inquadramento della documentazione che deve essere acquisita dall'esperto nell'effettuare quello che possiamo definire un primo diagnostico della situazione dell'imprenditore a seguito dell'avvio della della composizione negoziata nella slide successiva eh ho riportato eh le analoghe eh verifiche eh però in presenza di di un piano eh qui perché come vedremo nella seconda parte eh eh e come abbiamo già accennato eh in presenza di una situazione significativamente eh eh più difficile rispetto diciamo a ai casi ai casi del test di eh più facile gestione nelle situazioni eh più difficili eh il protocollo eh chiede all'esperto di esaminare il piano e eh quindi chiede che ci sia un piano e che l'esperto lo esamini e ne esamini la coerenza l'esperto non è né il soggetto che predispone il piano né il soggetto che lo attesta ma è un soggetto che svolge una verifica che possiamo definire anzi è lo stesso decreto dirigenziale a definirla una verifica eh di coerenza di di ragionevolezza e di coerenza eh in questo caso ritroviamo eh alcune eh delle delle informazioni che abbiamo già acquisito in fase preliminare ma poi eh ve ne sono delle altre eh qui forse non è tanto utile eh scorrerle eh tutte eh posso posso spiegarvi la logica eh che è quella di eh muovere comunque dalla checklist eh dalla famosa checklist contenuta eh nella sezione due del eh del del decreto eh la checklist diciamo è uno strumento che eh è utile sia all'imprenditore sia all'esperto eh l'esperto eh dovrà utilizzare la checklist in in forma di eh di questionario per verificare che tutte le condizioni previste tutti gli elementi informativi e i contenuti previsti dalla checklist siano stati eh adeguatamente eh trattati dall'imprenditore a partire dai ehm requisiti organizzativi ehm che sono il primo il primo tassello eh per la costruzione del piano eh alla eh disponibilità di una situazione contabile assestata che eh sia la cosiddetta spalla del piano eh la riconciliazione abbiamo già detto della debitoria con le evidenze esterne ehm l'eventuale esistenza di passività potenziali questo è un un confronto una verifica che viene fatta in prima battuta sulla base della documentazione predisposta l'esperto valuterà poi caso per caso se sia il caso di eh coinvolgere eh attraverso sistemi di richieste di conferme relazioni circolarizzazioni anche eh i legali che assistono eh la società soprattutto per i contenziosi di di maggiore magnitudo eh l'esperto ha a disposizione anche la possibilità di incontrare eh il collegio sindacale e il revisore se se nominati eh per ricevere eventuali osservazioni eh ora eh mentre il collegio sindacale è organo sicuramente più avvezza questo tipo di confronti e quindi non mi aspetto ehm cioè mi aspetto una una fluidità di collaborazione sicuramente eh elevata perché nelle corde del collegio sindacale occuparsi di crisi da da molto prima che esistessero eh le composizioni negoziate e quant'altro eh forse la figura del confronto col revisore eh è una figura che sarà un po' da definire eh tutti coloro che hanno avuto esperienze eh come attestatori e che si sono trovati a doversi confrontare con le società di revisione in carica sanno bene che il il revisore eh non eh non dichiara alcunché rispetto a quello che eh è oggetto di 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 confronto eh perché il revisore ha delle certificazioni eh da da emettere sulla base dei suoi principi di comportamento e di quello che la Sirevi dice che può essere dichiarato dal revisore quindi questo confronto con il revisore a mio avviso è sicuramente opportuno prevederlo anche perché parliamo comunque di situazioni contabili quindi è interessante anche solo da un punto di vista sostanziale non formale sapere se vi sono evidenze eh da parte del del revisore ma io credo che eh qui la Sirevi forse dovrà dire qualche cosa visto che il il decreto dirigenziale li chiama eh comunque esplicitamente in causa la Sirevi dovrà dire qualche cosa sul come sul come questa interlocuzione debba avvenire fra esperto e revisori però sicuramente l'esperto acquisirà dall'organo di controllo e dai revisori e perché no anche da da membri non eh non operativi del consiglio di amministrazione eventuali consiglieri indipendenti o quant'altro insomma da soggetti riferibili all'azienda acquisirà informazioni eh che sono di eh confronto e di corroborazione di quanto gli amministratori esecutivi dicono eh e quindi sia sulla situazione patrimoniale sia sulla situazione sulle cause della crisi sia sulla ragionevolezza delle proiezioni in queste e delle strategie di intervento in questo modo eh l'esperto comincia a farsi a crearsi un proprio convincimento sul fatto che la strada che eh che si propone eh è una strada corretta ehm anche se poi ovviamente eh dopo questo ci vorrà il confronto con i creditori per sapere se esattamente eh questa strada è percorribile ehm o o o non lo è ehm io non so se eh ho ancora tempo o se ok perfetto allora procedo ehm procedo e vado eh quindi eh ad analizzare ehm eh il le varie forme di eh di di squilibrio eh e che che innescano questo meccanismo di composizione negoziata ehm eh perché eh ovviamente parlare di risanabilità dell'impresa eh impone quantomeno di fare un ragionamento eh sulla eh su qual è l'obiettivo che ci ci dobbiamo proporre eh quindi che cos'è il il risanamento dell'impresa quindi dobbiamo partire a mio avviso dal problema e e e poi analizzare qual è la soluzione che dobbiamo cercare di di raggiungere allora il problema eh eh l'abbiamo detto è il requisito di accesso al 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 processo di di composizione negoziata e cioè l'esistenza di squilibri che eh la norma ci dice essere squilibri patrimoniali economici o finanziari eh inutile dire che che possono sussistere eh tutti tutti e tre contemporaneamente soltanto uno eh in modo in modo molto eh fluido come fluida è eh l'impresa ehm gli squilibri eh cosa sono allora ehm partiamo dallo eh squilibrio eh allora dovremmo partire dallo squilibrio finanziario perché il in realtà eh l'imprenditore eh percepisce molte volte per primo lo squilibrio finanziario cioè la eh i flussi in entrate e i flussi in uscita la carenza di risorse finanziarie è il primo è il primo sentore dell'imprenditore in crisi e quindi è quello eh che eh normalmente porta all'attivazione di strumenti eh correttivi ehm lo squilibrio finanziario eh eh poi eh ehm ha sotto però eh altri altri tipi di eh di squilibrio normalmente lo squilibrio finanziario non nasce da solo ma nasce da cause eh di tipo industriale o di tipo eh economico che eh risalgono magari a tempi precedenti e quindi dobbiamo considerare anche eh l'ipotesi che vi sia sia in atto che i costi e ricavi non sono non sono adeguatamente bilanciati i costi superano eh i ricavi lo squilibrio patrimoniale eh va da sé è una situazione in cui il patrimonio netto eh non non è più eh adeguato rispetto alla situazione debitoria o peggio ancora eh il patrimonio netto è diventato negativo e sceso al di sotto dei dei minimi legali allora in tutti questi casi ehm l'imprenditore e l'esperto eh devono svolgere quella valutazione di risanabilità eh cioè la valutazione sulla possibilità attraverso uno degli strumenti che sono previsti dal dal decreto di eh quindi attraverso un processo di composizione negoziata la possibilità di arrivare eh al risanamento dell'impresa quindi con risultati che possono essere eh di vario tipo ma che quantomeno dovranno eh comportare un riequilibrio finanziario ehm dell'impresa ehm il superamento sicuramente della situazione di squilibrio patrimoniale e eh possibilmente anche se non necessariamente il superamento della situazione di eh squilibrio economico il tutto per avere per arrivare ad avere un un debito eh sostenibile a regime e eh una capacità di adempimento delle delle proprie obbligazioni eh regolare ehm e facciamo eh qualche eh considerazione un po' più eh di eh di profondità eh allora dal punto di vista eh dello squilibrio patrimoniale il il risanamento eh il risanamento potrà essere perseguito eh attraverso eh diversi percorsi eh che vanno dal a un risanamento per via economica cioè la capacità eh dell'impresa di generare eh profitti in modo tale da ristabilire condizioni di equilibrio patrimoniale questo è il percorso diciamo eh meno di per sé solo e da solo eh meno efficace rispetto al raggiungimento dell'obiettivo per quanto non sia impossibile eh considerarlo facciamo ad esempio il caso eh di un'impresa che si trova in squilibrio patrimoniale a seguito eh del del lockdown 2020 delle perdite covid allora quest'impresa avrà eh sicuramente una situazione di squilibrio economico perché eh ha accumulato accumulato delle perdite eh di esercizio squilibrio patrimoniale perché il suo patrimonio ha risentito di quelle perdite eh accumulate squilibrio finanziario forse se se non ha eh attinto alla alla finanza eh speciale che 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 era prevista eh che è stata che è stata messa a disposizione con garanzia sacia oppure con altre forme di garanzia ecco in tutti questi casi eh eh questa impresa ha messo appunto che rimossa eh l'emergenza pandemica eh si si ripristinino eh in modo eh adeguato dei flussi economici a regime eh sostenuti eh questo questo tipo di impresa eh potrebbe anche pensare di seguire un percorso di risanamento che è completamente autonomo perché in questo caso avrà potuto fruire delle norme speciali in materia di sospensione eh delle cause di scioglimento eh a motivo delle perdite 2020 quindi può paradossalmente anzi senza il paradossalmente può normativamente procedere alla propria esistenza con un patrimonio netto che eh vede congelate eh le perdite 2020 e se ha dei risultati economici eh significativi può pensare in un arco temporale ragionevole di ripristinare la propria il proprio equilibrio patrimoniale senza necessità di chiedere eh stralci ai ai propri creditori questo è possibile eh bisogna eh ricordare stare attenti al fatto che eh il sistema della composizione negoziata il test è comunque eh un test eh di di natura eh prettamente finanziaria eh quindi eh ci dà un'informazione che non è del tutto completa rispetto a questo obiettivo se guardiamo poi lo vedremo più in dettaglio nella seconda parte eh ciò che viene confrontato con il debito e eh la capacità di generare eh flussi eh operativi netti a regime che non sono gli utili quindi eh a noi per per ripristinare il patrimonio netto servono gli utili quindi una volta che il test ci abbia detto in quanto tempo il debito rientra e eh ci abbia dato una misura della sostenibilità del debito scaduto eh non ci ha dato ancora tutte le informazioni che ci occorrono perché a noi sarà necessario eh anche eh verificare l'esistenza di utili di esercizio che rispetto appunto al dato che viene calcolato nel 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 test eh portano in conto sia le componenti straordinarie non ricorrenti eh sia i come dire eh sia gli interessi passivi eh sul eh sul debito eh e quindi bisogna vedere se se gli utili eh rimangono adeguatamente eh capienti questo a mio avviso lo si potrà vedere soltanto elaborando elaborando un piano eh di eh durata sufficiente a valutare se nel termine previsto dalle norme emergenziali quindi se entro il duemila e venticinque questa impresa sarà in grado di ripristinare condizioni di eh eh equilibrio patrimoniale se no l'equilibrio patrimoniale eh sarà sarà perseguito sarà un un obiettivo eh eh perseguibile attraverso altri altri metodi che che saranno eh ovviamente la richiesta di sacrifici ai creditori sotto forma di eh stralci piuttosto che di eh conversioni in strumenti finanziari partecipativi o altre o altre forme di di equiti o quasi equiti eh eh oppure eh oppure tramite apporti eh del 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 socio o di di riferimento o di altro soggetto apporti eh finanziari eh a patrimonio eh oppure più verosimilmente una combinazione di tutte queste eh di queste di tutte queste opzioni eh venendo allo squilibrio economico eh la risanabilità dell'impresa dovrà essere valutata in questo caso eh in termini di capacità di eh dell'imprenditore attraverso le azioni che che eh si figura di ehm di intervenire eh su sulla eh sull'equilibrio economico quindi prima sull'equilibrio eh di tipo operativo il 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 moll eh che che vedremo il margine operativo lordo che vedremo eh analizzando il calcolo del test eh eh prima il il margine operativo lordo ma poi anche gli utili eh gli utili netti dopo le imposte regime ecco eh la valutazione dovrà eh dovrà vertere sulla capacità eh di di ripristinare condizioni di equilibrio economico a quel livello quindi situazione in cui il moll è tornato positivo ed è tornato positivo eh per per importi che sono confrontabili con i comparable dell'impresa eh e se l'utile è tornato in positivo ovviamente questa è una valutazione eh molto ampia che 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 viene fatta sulla base delle azioni che sono previste per riportare inutile eh l'impresa posso fare un accenno eh anche se ovviamente ci sarebbe da fare un convegno solo su questo le azioni possono eh riguardare ovviamente potranno riguardare eh la parte dei ricavi così come la parte dei costi dovranno essere azioni che per essere valutabili eh in termini di eh ragionevolezza da parte dell'imprenditore ma soprattutto di concretezza da parte dell'esperto devono essere azioni il cui effetto è eh tendenzialmente dimostrabile eh ehm attraverso eh eh un processo logico che sia eh corretto e coerente quindi eh non potranno esserci salti eh nelle proiezioni dei ricavi o nelle proiezioni dei costi che che non siano eh adeguatamente giustificati da eh azioni che eh a livello descrittivo ma poi anche a livello quantitativo sono coerenti con eh le dinamiche di costi e ricavi eh e poi il il riequilibrio in termini finanziari riequilibrio in termini finanziari è forse il quello che eh più eh è stato oggetto di attenzione anche eh all'interno dei piani eh dei piani attestati ex articolo 67 comma 3 lettera D perché è proprio un oggetto di di della verifica anche da parte del del professionista attestatore sull'equilibrio sull'equilibrio finanziario si sono scritti eh si sono scritte tante pagine si sono dette tante cose ehm eh diciamo che eh si è partiti eh eh è un sicuramente un un riferimento importante lo si è trovato nell'articolo 2467 in materia di postergazione eh dei dei debiti verso soci eh nel quale viene definito un concetto di adeguatezza patrimoniale come eh confronto fra il il patrimonio dell'impresa e l'indebitamento della stessa eh partendo da quelli però da quello però eh ci si è spesso trovati nella difficoltà di 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 individuare quale sia il livello eh corretto eh di 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 questo di questo rapporto eh posto che non esistono degli standard da questo punto di vista e eh in presenza di condizioni apparentemente simili il rapporto può essere anche molto differente l'elaborazione successiva è quindi andata nel senso di valutare l'equilibrio eh finanziario la capacità di equilibrio finanziario eh del piano come capacità eh quanto a meno a regime di eh generare eh dei flussi che consentano il ripagamento del debito finanziario eh in un numero di anni eh ragionevole ehm che non è null'altro che la sostanza poi del eh del test quindi il test come lo vedremo non eh non ha fatto eh altro che eh eh diciamo fattorizzare l'esperienza sul concetto di eh di equilibrio finanziario eh eh senz'altro non ha fatto sto concludendo eh non ha fatto altro che fattorizzare questo esempio e trasformarla in un in un processo standardizzato eh sotto forma di test eh io direi eh concludo qua magari se c'è qualche domanda e poi riprendiamo sì infatti ma anche io direi che possiamo sospendere visto che poi comunque ci sarà tutto il pomeriggio ancora per affrontare queste tematiche chiedevo ai presenti visto che stiamo rispondendo alle domande online non so se i presenti hanno domande da porre eh ce n'è un'ultima online che però riguarda ancora eh i presupposti di accesso cioè si chiede se una fondazione non iscritta nel registro delle imprese possa accedere ecco eh ricordo che l'articolo 1 pone come eh condizione scusate l'articolo 2 che l'impresa si tratti di un imprenditore commerciale agricolo quindi deve essere iscritto al registro delle imprese per cui eh gli enti non iscritti al registro delle imprese non possono accedere a questi strumenti e altra domanda poi riguardava la l'obbligatorietà eh o meno di accesso a questa procedura per un'impresa sottosoglia laddove eh si possa alternativamente accedere all'OCC e eh alla procedura di sovraindebitamento ecco eh anche per queste ipotesi eh va considerato che eh c'è sempre un'alternatività cioè le imprese sottosoglia nel senso articolo 17 possono alternativamente accedere alla composizione negoziata piuttosto che eh al sovraindebitamento ma d'altra parte eh è così anche per le imprese eh iscritte a registro imprese comunque in generale le imprese fallibili cioè nel senso che anche tutte le procedure concorsuali sono comunque alternative non c'è un'obbligatorietà nell'accesso alla composizione negoziata e anche per la sottosoglia ehm esiste questa alternativa eh di accesso all'una o al percorso diciamo di composizione negoziata o direttamente alla procedura di sovraindebitamento questo per quel che riguarda le domande online non mi pare che ci sia altro se qui in sala non c'è altro ci aggiorniamo sì ci aggiorniamo alle ore 15 con tutti i partecipanti che stanno effettuando il collegamento da remoto alle ore 15 esatto pensavo alle adesso link per tutti i partecipanti che rimarrà identico per tutta la durata del corso quindi vi potrete ricollegare direttamente eh con lo stesso link grazie a tutti per la partecipazione per i partecipanti in sala vi aspettiamo per il pranzo grazie grazie più tardi grazie a tutti per i partecipanti grazie a tutti 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 Grazie a tutti.